buonasera a tutti io do il benvenuto a tutti a al convegno d'inverno del duemilaventitré dedicato alla vergogna al tema della vergogna ehm abbiamo qui i relatori che dopo presenteremo eh annuncio in anticipo poi lo ripeteremo che già nel duemila nel duemilaventiquattro avremo una nuova edizione del convegno d'inverno che sarà dedicato invece all'adolescenza in particolare all'adolescenza vulnerabile e al problema dell'identità di genere ma quest'anno è dedicato alla vergogna eh io mh prima di introdurre i contenuti trattati in questo convegno come chairman ehm vorrei ricordare Gianni Liotti Roberto Lorenzini ehm eh questo convegno nasce in memoria per omaggiare questi grandi personaggi della del nostro del nostro mondo accademico clinico e quest'anno purtroppo anche Giovanni Fassone ehm che ci ha lasciati poco fa passo a introdurre il convegno il tema che approfondiremo con i relatori e che è quello della vergogna un'emozione fondamentale fondamentale per la per tutti quanti noi per l'essere umano un'emozione che sperimentiamo quotidianamente un'emozione molto dolorosa forse tra le più dolorose e potremmo dire anche utile utile per l'individuo per la difesa della sua immagine sociale utile per la società per la difesa eh evidentemente di eh diciamo un certo ordine anche della società sappiamo però anche che la la vergogna può diventare ingrediente della psicopatologia e della sofferenza della sofferenza di interesse clinico e ci viene subito in mente probabilmente l'ansia sociale disturbo evitante di personalità quando pensiamo alla vergogna però è evidente che il ruolo il rapporto tra vergogna e psicopatologia non si limita a questo la vergogna la troviamo in tantissimi quadri di sofferenza psicopatologica ehm nei disturbi di personalità non solo il disturbo evitante di personalità penso al borderline ad esempio ma probabilmente al narcisista eh penso agli adolescenti penso a quanto sia centrale importante la vergogna eh durante l'adolescenza eh agli esiti post-traumatici eh e anche alle psicosi eh se insomma c'è una lunga tradizione ehm che eh come dire stressa il rapporto tra vergogna e psicosi addirittura tra esordio psicotico e vergogna eh penso alla psichiatria fenomenologica penso alla psicoanalisi di formista di Sullivan che prima mi ricordava Antonio ehm insomma un'emozione eh che gioca un ruolo fondamentale nella nostra vita di tutti i giorni ma anche anche nella sofferenza nella sofferenza psicologica psicopatologica è fondamentale per noi clinici per noi psicoterapeuti eh perché perché innanzitutto dobbiamo avere un'idea chiara di cosa sia la vergogna di quale sia quali sono i quali siano le eh gli ingredienti qual è la qualità psicologica che caratterizza la vergogna altrimenti eh altrimenti non capiamo se non capiamo curiamo male ed è fondamentale anche nella distinzione tra nella distinzione rispetto al senso di colpa queste sono due emozioni che come sappiamo spesso nominiamo in modo addirittura interscambiabile confondendole eh vedremo che insomma grazie anche all'intervento dei nostri relatori in questo caso in particolare i mancini quante differenze e quanti anche aree di sovrapposizione esistono tra queste due emozioni se pensiamo alla alla letteratura anglosassone pensiamo a termini come shame guilt ecco spesso vengono usati in modo interscambiabile sappiamo che invece sono emozioni diverse e che probabilmente giocano un ruolo molto diverso anche sia nella genesi che nel mantenimento della sofferenza eh io taccio eh prima di tacere però introduco eh il primo relatore che ci aiuterà proprio in questo lavoro di analisi psicologica cognitiva io introduco molto brevemente il professor Castelfranchi il professor ordinario di psicologia generale dell'Università di Siena già direttore del laboratorio di scienze cognitive del CNR e il professor Castelfranchi ci presenterà un'anatomia cognitiva della vergogna partendo da un'analisi cognitiva più generale delle emozioni ma poi zoomando sulle emozioni di vergogna non aggiungo altro lascio il microfono al posto di Castelfranchi non mi è levato questa scusa intanto vi chiedo scusa perché secondo professore che sennò non si sente no mi sento vi chiedo scusa perché una parte delle slide sono in ancora in inglese perché sono derivate da conseguenze e non ho avuto tempo di tradurle completamente tutte e integrarle però una buona parte no e l'altra scusa che vi chiedo ma su questo poi vi tranquillizzerò che una parte delle slide sembrano incomprensibili e difficili e formalizzate logicamente no non è così mostrerò quanto sono leggibili e semplici allora non si muove che è successo perfetto allora le emozioni sono degli stati mentali con molte componenti e molte dimensioni piuttosto ibridi con molti aspetti diversi di diversa natura e componenti fondamentali su cui ci poi focalizzeremo sono le credenze cioè le rappresentazioni mentali epistemiche conoscitive il scopi cioè le rappresentazioni mentali motivazionali e il sentire il corpo perché senza sentire senza un corpo attivo in cui provo qualcosa non c'è emozione in nessun senso ci sono diverse dimensioni per esempio appunto la rousal l'attivazione del corpo quello che provo ma provare un'emozione implica altri aspetti che interpretano quello che sto provando in qualche modo e gli danno un senso c'è una dimensione un ruolo valutativo delle emozioni l'emozione è una valutazione intuitiva implicita il fatto che provano una certa emozione implica una sorta di valutazione dell'evento dell'oggetto perché l'emozione è piacevole o spiacevole quindi quell'evento o quell'oggetto è buono da seguire o da evitare da evitare quindi implica una versione intuitiva implicita istintiva dell'evento dell'oggetto hanno un carattere etonico sono piacevoli o spiacevoli gradevoli o dolorosi e sofferenti hanno un carattere conativo nel senso ci inducono a un comportamento hanno aspetti espressivi eccetera 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 e poi c'hanno il famoso cogreti appresa dei cognitivisti su cui noi approfondiremo molto cioè le rappresentazioni mentali tali necessarie per avere un'emozione quindi la tesi che io svilupperò è le emozioni sono una complessa rappresentazione mentale con tante dimensioni sì ma bisogna focalizzarsi sulla emozione come rappresentazione cognitiva rappresentazione mentale e tutti i suoi ingredienti questo è il tipo di di approccio si via anatomia in particolar modo su due aspetti come dicevo credenza emozione scopo di emozioni su credenza ed emozioni la prima banale cosa è quella che ci hanno spiegato i cognitivisti che hanno chiamato il cognitive appresa cioè il fatto che quello che scatena attiva l'emozione l'attivazione emozione trigger non è più semplicemente uno stimolo come le emozioni più primitive stimolo risposta no è l'interpretazione di quello stimolo di quell'evento quindi credo una cosa suppongo una cosa penso una cosa interpreto l'evento lo stimolo e questo mi attiva l'emozione non semplicemente lo stimolo con un pattern matching ma il cui è una differenza tra la nostra teoria intendo dire quella di Maria Michele e mia e la teoria della presa al cognitivista c'è una differenza per noi le credenze non sono semplicemente antecedenti all'emozione lo stimolo di scatenare l'emozione poi che vuol dire allora soltanto provare e sentire no per noi le credenze sono parte dello stato psichico dell'esperienza psichica di avere intrattenere quelle emozioni provare quelle emozioni star provando quelle emozioni significa star pensando credendo una certa cosa è un piccolo argomento a favore di questo che tu stai provando un'emozione io te cambio una credenza posso intensificarla attenuarla eliminarla spostarti su un'altra emozione quindi avere un'emozione provare un'emozione significa star credendo quelle cose non averle credute credo e poi che cos'è l'emozione soltanto provare no per noi è un componente dell'emozione anche le credenze che la che la interpretano la scatenano le credenze hanno tanti tipi di natura e tante funzioni nella mente umana ne menziono soltanto alcune credenze come assunzioni sul mondo sui fatti sul futuro aspettative le previsioni sul passato i ricordi su quello che sto percependo adesso o su quello che io credo che ci sia che sto inferendo e immaginando io con la mia mente ci hanno un ruolo di ragionamento una struttura ragionante sono inferenze ipotesi credenze anche dell'irrealtà controfattuali l'idea che potrebbe essere sarebbe potuto accadere credenze dell'irrealtà e sono fondamentali molte emozioni come poi ci torneremo ma sono anche argomentazioni supporti nell'argomento le credenze sono organizzate argomentativamente credo questo perché questo infatti questo dunque questo è quello quindi sono tra loro strutturati in un modo ragionato supporti sono frutto di ragionamento argomenti e conclusioni non meno importanti sono il ruolo delle credenze su di sé o sull'evento l'interpretazione o sugli altri non esiste socialità umana senza credenze attribuzioni di mente agli altri avere un rapporto sociale umano significa che io sto leggendo la mente dell'altro più esattamente io preferisco dire attribuendo una mente all'altro attribuisco che crede certe cose assume certe cose prova certe cose vuole certe cose eccetera eccetera senza di che non ci sarebbe una possibilità di interazione umana e di emozioni sociali un altro ruolo delle delle credenze sono le valutazioni questa volta non come se provare a sentire positivo negativo ma come giudizio di valore giudico che questo è buono va bene o giudico che è male cattivo e poi un ruolo fondamentale che conoscete meglio di me le meta credenze quello che credo su quello che credo quello che credo su quello che voglio e tutti la possibilità di avere anche dei meta scopi scopi sui miei scopi per esempio nella forza di volontà voglio volere e voglio perseguire o nelle meta emozioni emozioni su un'emozione che provo ma dipende anche da come le interpreto evidentemente quindi le meta credenze sono la base di tutti i meta livelli della mente umana e tutta la meta cognizione umana e così via e così non la faccio lunga ma bisogna vedere quali credenze parliamo di un oggetto molto ricco e complesso di funzioni e anche la nostra risposta corporea a degli non è una risposta come dicevo ma a stimoli esterni basati semplicemente su un pattern matching stimolo pattern matching risposta no è più complicato noi reagiamo alla nostra interpretazione dello stimolo dell'evento al significato che attribuiamo all'evento cioè alla rappresentazione mentale che ci stiamo costruendo di quell'oggetto di quell'evento e la nostra reazione a questo punto può essere persino puramente a un fatto endogeno a uno stimolo endogeno generato da dentro di me non che mi arriva da fuori un puro evento mentale è sufficiente un puro evento mentale una pura immaginazione persino dell'irrealtà per scatenare un'emozione per esempio l'idea di quello che sarebbe potuto accadere può dare botta di terrore ma se non è accaduto se sai che non è vero non è successo è irreale sì è irreale so che è irreale ma solo l'idea che sarebbe potuto accadere già è sufficiente per scatenare una emozione quindi detto in parole povera faccio lunga è sempre ciò che penso il pensiero ciò che interpreta la persona cognitiva che mi fa per esempio arrossire nel caso della vergogna non è un semplice stimolo una credenza molto importante che vale la pena di spendere due parole e che non è esaminata nella teoria di emozione abbastanza è la credenza che chiamo attribuzionale cioè il vivere quello che mi sta succedendo che sto provando come dovuto a la mia risposta attribuisco quello che mi sta succedendo a un evento a un fatto esterno a un pensiero noi sentiamo viviamo la nostra risposta corporea ma la scriviamo con un'idea la scriviamo a qualcosa la interpretiamo come nostra reazione a dovuta a e questo cambia la natura dell'emozione adesso ti spiegherò meglio come ed anche in carattere emozionale a questo oggetto che l'ha provocata e l'ha stimolata e questo è un punto da un attimo da approfondire perché è un limite del grande geniale James che ci ha regalato la prima teoria delle emozioni quando ci ha detto cos'è la paura sento il mio corpo che scappa attento caro James fondamentale che le emozioni significa sentire il corpo se no non c'è emozione ma sento il mio corpo che scappa implica un'interpretazione non sento il mio corpo che si muove perché quello che sento il corpo che si muove lo sento che scappa esatto ma scappa vuol dire che io credo che la reazione del mio corpo sia volta ad allontanarsi credo che quell'oggetto lì sia un pericolo e che la scopo sia allontanarsi da quello è questa mia ho vissuto interpretazione che quello che sto provando nel corpo è la risposta a questo evento che gli dà questa natura di paura di spavento che rende questo un pericolo da allontanarsi e il mio un allontanarsi un fuggire non semplicemente un muoversi notate che questa credenza attribuzionale che dice quello che sto provando è dovuto a è la mia reazione a è la risposta a dalle emozioni un contenuto un a proposito le emozioni hanno dei contenuti c'è un oggetto e nelle emozioni sociali un referente io provo paura per e di io provo rabbia per con io provo invidia di questo con questo quindi ci hanno un oggetto un contenuto non è semplicemente un provare al sentire non a proposito e questo cambia anche la natura dello scopo conativo dell'impulso conativo per esempio scappare fuggire proprio perché è l'interpretazione che io sto dando dovuta a questo significato questa ricchezza di significato che interpreto l'emozione lo stesso provare al sentire è oggetto e frutto di rappresentazioni mentali cognitive è oggetto dell'interpretazione cosa sto provando a cosa è dovuto è la risposta a cosa che tipo di risposta è lo sto interpretando e anche allo scopo che viene riformulato come scappare per esempio oppure evitare fermare tenerlo eccetera eccetera interpreto anche l'impulso in una modalità specifica per me nell'anatomia delle emozioni che faremo della vergogna però ci focalizzeremo su due aspetti delle credenze due tipi di credenze più ovvie una sono sulle credenze che scatenano l'emozione attivano l'emozione come dicevo prima credo dunque provo credo emozione ma che dal nostro punto di vista rimangono anche componenti di quello stato psichico e rappresentazionale che è l'emozione possono essere credenze fattuali valutative le vedremo di tutti e due tipi non vi spaventate di questo pseudo formalismo logico semplicemente l'emozione di x nei confronti di y a proposito di o quindi c'è un oggetto di cui rispettate però e c'è un referente social chi prova l'emozione di cosa prova l'emozione verso chi prova l'emozione è fatto di credenze credenze per esempio a proposito di o credenze a proposito dell'altro di y credenze valutative eccetera eccetera è semplicemente una lista di semplici proposizioncine e credenze in particolare ci focalizzeremo sugli scopi ci parliamo su tre tipi di scopi il primo non lo mettiamo nell'anatomia ma è molto rilevante parlarne è lo scopo di provare o non provare di cercare quelle emozioni o di evitare quelle emozioni in generale secondo gli scopi che metteremo nell'anatomia lo scopo di cui l'emozione è l'emozione l'emozione a proposito di uno scopo è la guardiana di uno scopo è giustificata e motivata da quello scopo che è stato frustrato compromesso o raggiunto è a proposito di questo scopo e di quello sono felice o sono infelice di quello scopo che si è raggiunto e di quello scopo che è andato in malora quindi dovremmo dire qual è il centro motivazionale dell'emozione e l'emozione è un sistema di arousal, di allerta, di allarme a proposito di un qualche scopo perché è importante e ti dice ehi 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 hai raggiunto lo scopo stai raggiunto ehi 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 è fallito nel tuo scopo quindi qual è questo scopo di cui l'emozione è la vigilante, la guardiana e poi lo scopo invece che ho già parlato è attivato la spinta a fare qualche cosa o un impulso addirittura comportamentale tipo scappare oppure un desiderio, un bisogno attivato da quella emozione però voglio dire qualche cosa sul primo tipo di scopo che poi non metteremo nell'anatomia la domanda è molto rilevante e voi ne sapete più di me l'emozione, provare o evitare l'emozione è ciò che mi motiva? agisco automaticamente, impulsivamente oppure intenzionalmente scelgo? per quell'emozione? per provarla o per evitarla? mi comporto in un certo modo per esempio perché voglio, tendo a evitare di provare vergogna? o perché voglio salvare la mia immagine? non fare una figuraccia? lo scopo della mia immagine sociale? non è la stessa cosa oppure mi comporto in modo moralmente corretto perché voglio, ho la tendenza a evitare di sentirmi in colpa? oppure perché voglio fare il giusto, il mio dovere, essere a posto con la mia coscienza? non è la stessa cosa penso ci siano tutte e due le dinamiche e andrebbe fatto un ragionamento, voi lo sapete meglio di me su queste due diverse dimensioni quando l'emozione da provare o da evitare è il mio scopo o intenzionale infatti mi sono domandato ma in che senso mi motiva? in che senso è il mio scopo? è uno scopo intenzionale? lo voglio intenzionalmente evitare questa emozione? o raggiungere questa emozione? o uno scopo in un altro senso? che è una semplice risposta strumentale condizionata? instrumental learning? automatica? ormai una modalità reattiva? purtroppo ci pare la teoria di questi tipi di finalismi psichici perché in tutti e due i casi c'è una specie di scopo qui nella mente rappresentato però non abbiamo tempo di fare questa distinzione tra i due tipi di finalismi psichicici quello dell'instrumental learning e quello dell'intenzionalità comunque è una domanda piuttosto rilevante come dicevo nell'anatomia metteremo gli scopi attivati dall'emozione e gli scopi di cui l'emozione è la segnalatrice e la guardiana scopi in che senso? in questo caso scopi nel senso di psichicamente rappresentati l'obiettivo che mi pongo, che mi propongo quindi l'anatomia sembra un oggetto complesso ci saranno le credenze, credenze, credenze e due tipi di scopi gli scopi monitorati, frustrati o realizzati a seconda se l'emozione è buona o sofferente e gli scopi attivati, gli impulsi allora andiamo all'anatomia cognitiva della vergogna un po' impressionante no, niente di preoccupante se guardiamo quella della colpa è pure peggio ma tanto non la farò l'analisi della colpa ma è ancora più ricca di pezzi e di dettagli la voglia è fatta di credenze, credenze, credenze scopi, scopi e poi un'attivazione di scopi allora cominciamo dalle prime credenze fondamentali qui si tratta della vergogna che X prova nei confronti di Y a proposito di O quello che c'è nella mente di X per provare la vergogna è che X crede anche lui O pensa di aver fatto qualche cosa sa di aver fatto qualche cosa o di avere un qualche difetto quindi anche lui sa questa cosa di cui gli altri lo criticano e la vergognano e crede che l'altro lo sappia che gli altri lo sanno questa cosa brutta che ha fatto o questa caratteristica negativa che ha oppure che lo sapranno lo verranno a sapere oppure che lo potrebbero sapere è sufficiente questo per vergognarsi c'è una vergogna post hoc a cose fatte oddio mamma mia se ne sono accorti che figuraccia una vergogna preventiva, anticipatoria adesso lo sapranno mamma mia quando verranno a sapere oppure una vergogna puramente ipotetica mamma mia se qualcuno lo sapesse non ci posso pensare guarda solo l'idea che qualcuno possa sapere quindi già una vergogna puramente ipotetica è sufficiente ma l'altra cosa che X deve credere per vergognarsi è che agli occhi di loro, di Y, di lei, di lui, di loro è una brutta cosa questo O questa caratteristica che lui ha e di cui si vergogna o di quei altri lo criticano, lo biasimo o questo comportamento che ha fatto lui crede, belief X che c'è una valutazione negativa sull'oggetto della vergogna per loro, per lei, per lui, per loro è un difetto, è una cosa negativa è una brutta cosa e crede quindi che questa valutazione negativa sulla sua caratteristica o sulla sua azione o l'oggetto si ripercuota su di lui crede che la sua immagine è stata compromessa che da questo consegue un giudizio negativo su di lui crede che Y valuta negativamente X, lui lo sta valutando negativamente a causa di quella caratteristica o a causa di quella cosa che ha fatto non valuta semplicemente la condotta sta valutando il soggetto la valutazione negativa del punto 3 sull'atto sulla caratteristica si trasferisce su di me sulla mia immagine e per questo prendo una botta valutativa io la mia stima la mia immagine e qualcuno sosteneva che questo non avviene invece nella colpa invece sosterrò che non è qui la differenza tra la colpa e la vergogna questa piccola anatomia già ci consente di fare un'interessante teoria sull'intensità della vergogna la cosa dipende quanto è intensa la vergogna quanto sto male per la vergogna beh, è banale dato l'analisi che abbiamo fatto primo quanto più io percepisco mi aspetto grave la valutazione negativa che daranno di O quanto più penso che per loro è una cosa brutta negativa disprezzabile eccetera eccetera tanto più mi vergogna ovvio secondo quanto più penso che quella valutazione negativa su quella cosa che ho fatto su quale dire si trasferisce su di me sulla mia immagine la mia immagine la mia figura presso di loro si abbassa prendo una voce negativa tanto più mi vergogno non sempre è così potrebbe essere che ha fatto una cosa che è oggetto di 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 regolizzazione di presa in giro ma non è che guasta completamente la mia immagine e la mia stima In altri casi, no, penso, Dio, mamma mia, che cosa penseranno di me? Poi, quanto più ci tengo alla valutazione, all'immagine presso Y, presso lei, lui, loro, quanto più importante per me il giudizio di valore loro, cioè quanto più importante è lo scopo dell'immagine presso di loro, Y, tanto più mi vergogno. Quanto più sono sicuro di tutte quelle credenze, quanto più sono certo che lo sanno, che lo sapranno, quanto più sono certo che valurano negativamente, tanto più mi vergogno. E poi, ovviamente, più mi focalizzo su questo, più mi ci trattengo e più sto male, ovviamente, come potete spiegare meglio voi di me. Altro punto fondamentale, anche per la discussione su vergogna e colpa. Nella letteratura psicosociale attuale c'è un grande pastriccio. Shame and guilt, guilt and shame, sono molti identificati, eccetera, eccetera. E uno dei punti di controlli problematici è che sono tutte e due emozioni morali. Le emozioni morali, guilt and shame, shame and guilt. No, niente affatto. La vergogna non è un'emozione intrinsecamente morale. La colpa sì, la colpa sì. Ed è banale che sia così. La vergogna può essere per me le caratteristiche che ho, di cui non ho alcuna responsabilità e che non hanno niente di morale. Mi posso vergognare perché sono basso, perché sono strabico e vengo presa in giro a scuola all'asilo dagli altri bambini perché sono strabico. Che c'è di morale e che c'è di responsabilità zero. Sono oggetto di valutazioni, in un certo senso anche non di vere norme e di giudizi non morali, ma anche quando agisco, mi vergogno per quello che ho fatto per un'azione. Non necessariamente il giudizio che ricevo nel giudizio morale. Molti giudizi negativi sulle mie condotte sono perché si mettono di scondotte non conformi, non normali agli usi, all'abitudine, ai costumi del nostro gruppo, non attese come se aspettiamo che tu ti comporti come tutti gli altri o secondo le regole del tuo ruolo. Quindi, in un certo senso, ce l'aspettiamo e quindi te lo prescriviamo perché è così che ci si comporta qui in questo ruolo, in questo contesto. Quindi la tua condotta può essere tutta inappropriata, non conforme alle norme sociali, non morali, perché per esempio è ridicola, è buffa, oppure perché è ineducata, maleducata, fastidiosa, non c'è una dimensione morale. Naturalmente, se c'è una mia condotta che viola norme morali, un'azione immorale, anche di quello posso vergognarmi. Ma è un sotto, sotto caso, perché è chiaro che anche la mia azione che viola norme morali è oggetto di giudizio e produzione negative e quindi la mia immagine è sciupata come persona, per esempio, irresponsabile, immorale, eccetera, eccetera. Ma non puoi dire che la vergogna è immorale. No, la vergogna è un problema di immagine. Dei miei amici, Silvio e Sabini, dicono una bella parola. Non è un'emozione etica, è un'emozione estetica. A me piace. Che figura, che brutta figura, che figuraccia. Le parole, non so a caso, le parole sono una cosa profonda. Quindi, semmai, è un'emozione estetica non etica. Comunque, questo, certamente, è una differenza importantissima con il senso di colpa. Ma, come dicevamo, un problema può essere che nell'inglese il concetto di shame è leggermente diverso culturalmente dal concetto italiano di vergogna. Mi spiegarono, adesso non possiamo approfondire, degli amici, che questo fa parte della tradizione protestante ed è una cultura molto diffusa negli Stati. Quindi, può essere anche per questa differenza culturale che c'è questa eccessiva identificazione tra shame and guilt e guilt and shame. Torniamo alla nostra strutturina. Quando io credo, X crede, che c'è una valutazione negativa su di lui da parte di lei, di lui, di loro, di me, che la sua immagine, quindi, è ormai fallita, frustrata, non gli piaccio, il suo scopo di essere ben valutato, quindi viene frustrato. Io voglio essere ben valutato e credo di essere mal valutato. Fallimento dello scopo, evidentemente. Lo scopo della buona immagine e della stima presso gli altri è frustrato, emozione, dolente, dolorosa. E questo è lo scopo di cui l'emozione e la vergogna è la guardiana. Ehi, 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 che figura che stai facendo? Lo scopo della tua immagine è andato in malora. Ma un punto qui delicato e importante e controverso, su cui a cui tengo molto. In realtà, perché X si possa vergognare verso Y, bisogna che anche lui condivida il valore, che anche dentro di lui e per lui, ai suoi occhi, sia una brutta cosa. Anche lui valuta negativamente ciò di cui si vergogna e quindi poi se stesso. Quindi dobbiamo aggiungere queste valutazioni. Crede X valuta negativamente O. Anche ai suoi occhi è una brutta cosa, valore condiviso. E quindi anche X valuta negativamente se stesso, X. Io sono difettoso. Io non mi apprezzo. Mi svaluto. Quindi c'è una botta anche all'autostima. Non solo alla stima, all'immagine, ma all'autoimmagine. Al sé, alla presentazione di sé. Io condivido che è una brutta cosa, se no non mi posso vergognare. Se gli altri giudicono negativamente una mia cosa, e io penso sia una cosa bellissima, non vado in vergogna. Vado in scontro di valori, in provocazioni, in sfida. Ma come ti permetti? Ma che ti viene in mente? Se vado in vergogna vuol dire che c'è condivisione di valori. Assurdamente poi vedremo che invece non c'è necessariamente condivisione del fatto. Ma del valore sì. Perché è così importante questa condivisione del valore e questo fatto che quindi io mi vedo difettoso e mi valuto negativamente. Qui nasce una grande domanda. Dato che quindi viene frustrato non solo il goal 5 della stima degli altri, della buona immagine, delle buone immagini, ma anche lo scopo di quest'altro, della autovalutazione, della self-esteem, della self-image, della stima immagine di sé, allora nasce una grande domanda. Ma di quale scopo la vergogna e l'emozione? Della stima e dell'immagine sociale o dell'autoimmagine dell'autostima? E su questo ci fu una piccola polemica con la mia grande, geniale collaboratrice Maria Miceli, che era propensa ad andare in questa direzione. No, la vergogna è lo scopo dell'autostima e dell'autoimmagine, perché per vergognarsi è necessario che sia compromessa anche la stima di sé e la valutazione di sé negativa su se stessi. Io no, non ero d'accordo. Voglio dare un attimo di argomenti. Un argomento che sava Maria era questo. Ma scusa, è chiaro che la vergogna a proposito della stima che io ho di me, dell'autoimmagine, tant'è vero che posso vergognarmi anche se non lo sa nessuno. Contro l'argomento a questo argomento di Maria Miceli. No, non è così, cara Maria. Perché è vero che posso vergognarmi anche se non lo sa nessuno, ma solo all'idea che qualcuno lo potrebbe sapere. Quindi nella mia mente c'è sempre un occhio che mi guarda, che mi giudica, c'è sempre un occhio a cui sono esposto, eccomi dello sottrarre. Anche se in quel momento non lo sa nessuno, solo all'idea che qualcuno lo sa, che lo potrebbe sapere, vado in vergogna. Quindi non è il fatto che nessuno lo sa, che è una prova sussidente. Altri argomenti a favore che no, la vergogna, lo scopo dell'immagine sociale, è la vergogna dell'innocente. La vergogna di chi è mal giudicato dagli altri e invece non ha fatto niente, non sa che è così. Quindi è il giudizio altrui che è determinante nella vergogna. Un altro piccolo, poi adesso approfondisco la vergogna dell'innocente, un altro aspetto argomento a favore del fatto che la vergogna è l'emozione dello scopo dell'immagine sociale, della figura, e che guarda caso, l'impulso attivato dalla vergogna è sottrarsi, ripararsi allo guardo, abbassare lo sguardo, non guardare, non essere visto, sottrarsi allo sguardo degli altri. Volevo sprofondare, mi sarei voluto seppellire, volevo scomparire, che vuol dire? Sottrarsi allo sguardo degli altri. E infatti anche emozioni affine alla vergogna, tipo la mia timidezza, l'imbarazzo, sono basati su questo non esporsi, non esporsi, non esporsi. Quindi per me l'aspetto sociale è quello fondamentale. Vergogna degli innocente, questo è un tema importante. Dovremmo correggere quella credenza che abbiamo messo al primo punto della vergogna. Crede X che ha fatto O, che ha questa caratteristica O, che ha fatto quella scettazione. No, anche se lui non ha fatto niente o non ha quella caratteristica, se viene creduto così e preso in giro da questo, può andare ugualmente in vergogna. Quindi dovremmo correggere anche la seconda credenza. Crede X che loro, lei, lui, sanno di quello che ha fatto o sapranno. Non sapranno o sapranno. Credono o crederanno. Quindi andrebbe corretta questa logica. Rimane invece valido il fatto che quella cosa è valutata negativamente, è valutata negativamente, quindi cosa pensano di me, cosa pensano di me. Perché è così importante che nella vergogna c'è questa condivisione del valore, questa interiorizzazione del valore. C'è una sincera internalizzazione di un valore sociale. Su questo dovremmo fare una polemica con Mild e Beneditta adesso. Non semplicemente conformità esteriore, onore e reputazione, cosa pensano di me, ma l'internalizzazione del valore. E quindi appunto esaminiamo due punti critici. Importanza dell'internoizzazione del valore e poi un altro aspetto, due tipi di valutazione negativa. Voglio focalizzarmi su questi due aspetti delicati. Non si può veramente vergognarsi di una certa cosa di fronte agli altri, a Y, a Y, a lei, se almeno inconsciamente non condivido intimamente quella valutazione negativa e condivido in troietto quel valore. E poi se non tengo l'opinione di Y, ovviamente. Qui dobbiamo fare una polemica con due grandi antropologhe, Ruth Beneditta e Margaret Mead, geniali ricercatrici, che hanno fatto un'importante distinzione molto interessante, e per me in certi versi valida, tra culture della vergogna e culture della colpa. Le culture della vergogna sarebbero quelle culture in cui sono regolato dal premio. E se no che dicono di me? E se no che fanno? E che penseranno di me? E c'è la reputazione? E se no che... Quindi questo mi conforma alle norme sociali, alle regole sociali, perché ho paura del giudizio che darebbero di me, cosa direbbero di me, che voci si spargerebbe così bene. Le culture della colpa, questo è irrilevante. Le culture della colpa io sono regolato da valori interni, interiorizzati, io controllo e impongo a me stesso come mi devo comportare. Non sto preoccupando cosa pensano e cosa dicono gli altri. La tesi di Margaret Mead, dovrebbe essere che nelle culture della vergogna il valore non è interiorizzato. No, mi dispiace, cari Udè. Nella vergogna il valore è interiorizzato. Quindi dovete cambiare il nome di questa cultura. Dovete cambiarle nel nome il culture della reputazione. Culture di cosa diranno di me. Allora ci prestiamo. Non le chiamate culture della vergogna se volete dire che in quelle culture il valore non è dentro di me, io non sto giudicando e valutando me stesso. La parola è sbagliata. La distinzione è interessante. Su questo ci tornerò se ho tempo. Perché io ci tengo tanto a sottolineare questa importanza dell'introiezione dei valori, delle sincerità? Perché questo ci crea dei problemi della vita molto importanti. Ci crea un problema di percorsi. Quando noi interiorizziamo i valori sociali in base a quale veniamo giudicati, sia etici che non etici, e in cui ci vergogniamo, per esempio, noi abbiamo un'educazione emozionale a questo. Non si tratta di un giudizio negativo. Ho un vissuto negativo quando mi vergogno. Un'emozione che ho interiorizzato emozionalmente dentro di me. E devo fare un percorso di rieducazione emozionale per liberarmi di questo valore che mi è stato inculcato da mamma e papà e dagli altri. Questo è un percorso necessario e tipico, questa autonomizzazione dal giudizio degli altri, dal giudizio del loro valori, per creare i nostri valori, la nostra appartenenza, il mio gruppo, la mia appartenenza, che richiede comunanza di valori, evidentemente, ed è un percorso fondamentale nella preadolescenza e nell'adolescenza. È un percorso tipico che spiega perché è necessario nella preadolescenza e nell'adolescenza provocare. Provocare giudizi negativi. Sfidare il giudizio. Perché? È una specie di cerimonia iniziatica che devi fare per dimostrare a te stesso che non sei più un pupo. Che ti stai autonomizzando, che ti stai costruendo i tuoi valori e non sei più il pupo. Cosa voglio dire? Fai casino sull'autobus. Ma che ci si comporta così? Ma che si fa così? Ma che cosa ti hanno insegnato? In quel momento non arrossire. Arrossisci. Allora sei ancora un pupotto. Riesce a non arrossire. È scandalizzato questa signora che rappresenta mamma e papà e non arrossisci. Noi siamo noi. Noi pari che siamo. Noi abbiamo costruito... E per dimostrarlo e sentirlo a noi stessi dobbiamo provocare, sfidare e ottenere e reggere e non andare in vergogna e sottomissione da bambini. Quindi è un percorso fondamentale questa rieducazione emozionale che richiede queste operazioni di sfida, provocazione, esibizione e reggere. Non vergognarsi perché noi ci stiamo autonomizzando nei nostri valori che non sono soltanto credenze ma sono emozioni emozionali. Perché ci tengo tanto a sottolineare questo? Perché è una storia complessa e di grande bellezza. Tutti i gruppi sociali che hanno subito inferiorità sociale disprezzo o anche semplicemente pregiudizio o anche semplicemente inferiorità mancanza di diritti tutti hanno interiorizzato la loro inferiorità e il loro disvalore dentro di loro emozionalmente. i gay si insultavano e si insultavano e si insultavano e si insultavano dicendo negro perché anche se tu cambi l'opinione il carattere emozionalmente negativo della cosa rimane e quindi è necessario questa interiorizzazione richiede un percorso sociale e psicologico e di rieducazione emozionale che può essere fatta solo collettivamente da solo non ce la posso fare e questo si basa sulla necessità di esibire la differenza esibire questa cosa che è sempre stato oggetto di inferiorità di tutta nascosta e costruirne un orgoglio voglio farvi tre esempi tutti questi gruppi sociali che hanno avuto questa condizione di inferiorità di mancanza di diritti eccetera eccetera e hanno interiorizzato emozionalmente questo disvalore e questa inferiorità devono costruire questo orgoglio non possono affermarsi a un movimento di emancipazione emancipazione significa vogliamo gli stessi diritti siamo uguali a voi uguali a voi rivendichiamo la nostra uguaglianza che è stata invece offesa e ferita non ci avete mai riconosciuto la nostra uguaglianza questa è solo la prima fase la prima fase di gruppi sociali che hanno avuto disuguaglianza inferiorità o addirittura disprezzo non basta perché devono liberarsi dentro di sé del disvalore del senso di inferiorità che hanno interiorizzato interiore e questo comporta che io riesco devo riuscire a vivermi come bello quello che vivevo come vergognoso a esibirlo non nasconderlo a essere fiero di quindi alla fase emancipatoria deve seguire una fase invece della rivendicazione dell'orgoglio movimento nero americano prima fase fase emancipatoria lit rock basta che sull'auto sono i posti riservati ai bianchi in cui non ci possiamo sedere ma che cavolo è questa cosa qua questa rivoluzione cominciò perché una signora nera si è sedetta nella sedia sull'autobus la sedia del bianco non si è per donne che cominciò queste rivoluzioni lit rock i bambini la polizia che ferma per entrare gli studenti neri nelle scuole eccetera prima fase vogliamo l'uguaglianza gli stessi diritti basta che c'è un ristorante in cui non possiamo andare basta che seconda fase orgoglio nero black panther black power siamo fai fieri della nostra africanità e certo e non puoi farlo da solo deve essere un movimento in cui tutti assieme riusciamo a mostrare l'orgoglio di questa nostra differenza non dell'uguaglianza differenza identico processo movimento femminista prima fase movimento femminista fine dell'ottocento le suffragette fino agli anni settanta del secolo scorso rivendichiamo l'uguaglianza basta con le discriminazioni basta che a parità di lavoro io vengo pagata molto di meno ancora adesso basta che io non ho diritto di voto avete avuto il diritto di voto nel 45 basta che non posso andare a scuola anche se sono bravo e mi piace mentre mio fratello che è in caprone può affinare la terza basta vogliamo gli stessi diritti questa è la fase emancipatoria poi è cambiata movimento femminista della differenza no non rivendichiamo affatto che siamo uguali a voi uguali a voi uguali a voi siamo diversi da voi maschi siamo orgogliose della nostra differenza e diversità e la rivendichiamo e i cortei delle rivendicazioni delle donne non sono più cortei politici con i sindacati con le bandiere rosse col pugno chiuso no 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 con i maschi no 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 fuori i maschi dal corteo mi hai detto lo sbattuto su marciapiede il corteo delle donne e per le donne rivendichiamo la nostra differenza è orgogliosa e il simbolo al più il pugno chiuso con la bandiera rossa è il simbolo e il simbolo della donna si sbatte in faccia l'orgoglio della mia identico processo nel movimento gay e tutti diciamo no ma per carità perseguitare gay è una cosa ignobile ma perché sono stati perseguitati condannati a essere messi in manicomio a essere ricoverati imbottiti di farmaci Turing si ammazzò perché mi faceva più a reggifarmi che gli davano perché era gay si è suicidato sono liberi non fanno male a nessuno sono liberi di vivere assieme possono anche sposarsi ma perché che male c'è basta con queste pregiudizie ma che bisogno c'è di questa marcia di orgoglio omosessuale devono andare in giro vestiti così per strada e sbaciucchiarsi ma che bisogno c'è e te lo sto a spiegare quale vergogna più interiorizzata dell'essere gay manca mamma e papà lo potevo dire manca mamma e papà e sappiamo lo sforzo dell'acting quindi quale necessità maggiore finalmente di sbatterlo in faccia esibirlo e dire sono orgoglioso e fiero e certo da solo ogni faccia a farlo ma in realtà non sto cercando soltanto di cambiare le vostre test sto cercando di rieducare emozionalmente me stesso dentro di me tradicarmi questo valore negativo interiorizzato e quindi ci sono esperienze del genere anche nei movimenti dei matti ok quindi devo arrivare a un orgoglio della differenza oggetto di discriminazione e disvalore che io avevo interiorizzato per essere fiero di ciò ed esibirlo ci sono due tipi di provocazioni perché ho bisogno non solo di sentirlo positivo di viverlo come positivo ma anche di sbatterlo in faccia di volerlo esibire di esibirlo a me stesso non nascondo ed esibirlo agli altri e questi voglio voglio che lo sappiano quindi anche perché credo che c'è che c'è sempre una evoluzione negativa da parte di Y voglio oppormi a questa evoluzione negativa che mi arriva addosso opponendo una evoluzione positiva ne sono fiero è bello è positivo ne sono fiero l'opposto l'orgoglio è l'opposto della vergogna della evoluzione negativa è una evoluzione positiva non da nascondere ma da esibire però ci sono due tipi di provocazioni una provocazione volse ascendersi noi non vogliamo avere niente che fa con voi con la vostra società con i vostri principi noi siamo un'altra cosa ci separiamo da voi facciamo un mondo nostro con i nostri valori questa per esempio è la provocazione punk ma c'è un altro tipo di provocazione che la provocazione volta noi vogliamo rimanere in questa società vogliamo essere ma voi non potete continuare a vestire i valori una evoluzione volta a cambiare i valori nella vostra mente a sdradicarvi questi pregiudizi questi preconcetti in modo che ne possiamo essere accettati a parte della società quindi due forme di provocazione sempre contro questo giudizio e questi valori ma con due finalità e due vissuti diversi l'altro punto critico era quello delle valutazioni negative ce la faccio ancora cinque minuti forse sì questo è un punto un po' delicato devo farlo rapidamente cos'è una valutazione? non come vissuto come giudizio è una credenza che attribuisce valore a un'entità un oggetto una persona attribuendogli dei poteri poteri è un concetto lato potere vuol dire che è in grado di raggiungere degli scopi ha delle doti dei meriti delle capacità delle quali sono poteri interni capacità forze salute ma anche interni mentalmente conoscenza abilità raggiamento intelligenza o poteri esterni per esempio le condizioni i mezzi di cui dispongo oppure sociali la rete sociale di cui dispongo il supporto il ruolo che rivesto i diritti eccetera eccetera vari tipi di poteri interni esterni che mi danno la capacità di posso ho il potere posso mi danno questa potenza quindi il giudizio positivo che dà valore a un x è che ha il potere di raggiungere un certo scopo ne ha le qualità le doti i mezzi le caratteristiche questa è la questione positiva che è riconoscimento attribuzione di valore ad x a valore potere è valere mi riconosci che ho dei poteri delle qualità delle doti mi sta riconoscendo che valgo potere è valere se mi attribuisci un potere mi sta attribuisendo un valore ma dal momento che valgo per voi e allora forse vi servo allora forse possiamo entrare in scambio in relazione forse posso fare qualcosa con voi insieme con voi scambiare entrare in scambio quindi potrei usare i vostri poteri quindi dare che abbia valore per voi vi dà potere a me ma è dentro della relazione sociale quindi potere è valere potere dà valore valere è potere il valere per gli altri dà potere quindi un circolo fondamentale della società della società umana ma adesso quello che mi interessava è focalizzarmi data la voluzione positiva su due tipi di valuzioni negative data la voluzione positiva x ha il potere di voluzione negativa del primo tipo x non ha il potere di privo manchevole difettoso substandard inferiore non ha le carità non ha le doti non vale niente ma c'è un altro tipo di valuzione negativa non è questa la negazione non va sul potere da x ha il potere di un certo scopo la negazione x ha il potere dell'opposto del mio scopo ma che cos'è l'opposto del mio scopo è la frustrazione dello scopo è il danno il male cos'è male frustrare lo scopo cos'è danno frustrare lo scopo quindi x ha il potere di far male di fare del danno ha un potere perverso negativo nocivo esattamente altro tipo di evoluzione negativa che in un certo senso riconosce un potere un valore nel male pericoloso il primo caso evoluzione del primo tipo a che mi serve non serve a niente non vale niente non lo scelgo non mi serve nel secondo caso non è che non lo scelgo lo evito è pericoloso è dannoso e qui sta nascosta una delle differenze profonde tra vergogna e colpa qualcuno ha sostenuto lui se mi pare e anche battacchi e la differenza sta nel fatto come dicevo che nella vergogna la evoluzione negativa si trasferisce da ciò di cui mi vergogno e ciò che tu giudichi negativo a me faccio una brutta figura nella colpa no ma di che sta parlando se io faccio una cosa cattiva sono cattivo il giudizio si è preso di me non è questa la differenza la differenza sta nel tipo di valutazione nella vergogna il primo tipo di valutazione quello che ho fatto è inadeguato manchevole difettoso ridicolo inutile e io sono inadeguato inferiore manchevole substandard valutazione cattiva del primo tipo per questo è una botta al valore che ho una botta alla mia immagine valgo niente valgo meno degli altri nella colpa la evoluzione negativa è del secondo tipo quello che ho fatto è male nuoce lede e quindi tu sei uno che ha poteri perversi negativi evoluzione negativa del secondo tipo ha il potere di nuocere il potere di far del male ha un potere perverso quindi qui sta nascosta semmai una differenza in termini valutativi tra vergogna e colpa a cosa serve la vergogna trago questo tra l'analisi delle posture delle cose della vergogna a me non possiamo fare ma è bellissimo e tutto questo è cosa del corpo faccia occhi posizione eccetera mando un messaggio agli altri un messaggio molto interessante che possiamo sintetizzare in questa parte blu che ho messo il display emozionale la mia postura proietta gran parte della mia mente e di cosa ti comunica io ci tengo al vostro giudizio mi preoccupo del vostro giudizio e mi preoccupo di essere accettato nel gruppo e di non essere considerato fuori di voi non solo ma riconosco la mia difettosità o il mio errore la mia imperfezione e sinceramente sinceramente perché non posso fingere posso fingere la mimica non posso fingere il rossore quella è incontrollabile sinceramente sono d'accordo con questa cosa che è una cosa negativa dentro di me condivido quindi i valori dentro di me non sono un alieno con altri valori non sono un provocatore che sfide i vostri valori io li accetto li ho uguali a voi e quindi non mi oppongo a voi non mi oppongo al gruppo mi sottometto mi sottometto al vostro giudizio e ai vostri valori e soffro soffro di questa mia difettosità e soffro del vostro giudizio negativo e sono molto dispiaciuto di questo perché cosa vuol dire essere dispiaciuto soffrire e la vergogna è sofferenza quindi mostrando che mi vergogno sto mostrando che sto soffrendo della mia difettosità e del vostro giudizio quindi ecco a cosa serve la vergogna all'individuo come accennava lui e al gruppo all'individuo serve essere incluso e quindi non ignorato ricevere attenzione atteggiamenti protettivi non espulsivi questa è la funzione della vergogna lo scopo funzionale dunque io lo scopo che ho in mente io quando mi vergogno lo scopo che ho in mente io quando mi vergogno che in figura ci faccio ma la funzione della vergogna è farti mantenere membro non espulso del gruppo uno di noi e come noi vabbè si sottomette e valere qualcosa per gli altri come noi condivide entrare in rapporto di aiuto e di supporto possibilmente di scambio perché se sono fuori sono fuori al gruppo serve perché ribadisce l'autorità del gruppo mi sottometto ribadisce i valori del gruppo ecco perché il gruppo dice almeno vergognati che vuol dire almeno vergognati almeno se ti vergogni sappiamo che non sei un alieno un provocatore che sei d'accordo con noi e sei uno di noi puoi rimanere tra noi scusate ecco vorrei dire due piccole cose e poi ho finito su colpa e vergogna rapidamente in un certo senso anche se sono d'accordo con la teoria di Mancini che lui poi ci spiegherà possiamo dire che tutti i sensi di colpa sono di tipo deontico deontologico sono morali etici è vero che c'è una colpa puramente specificamente deontologico deontica quella che di Mancini ci dà la teoria è molto importante per mera violazione di norma non c'è nessuno che soffre nessuno che ha fatto male mera violazione esiste ma tutte le forme di sensi di colpa hanno un carattere intrinsecamente morale il problema è se è fatto il giusto se la situazione è giusta la colpa è un'emozione centralmente etica a differenza della vergogna che come sappiamo può essere relativa a valori che non hanno di natura necessariamente etica quindi questo ci tenevo a dirlo lo scopo motivante del senso di colpa è hai fatto il giusto il dovuto quello che hai hai fatto il tuo dovere ho io soffrito o goduto di beni immeritati o del male degli altri mentre la paura del senso di colpa è centrata su questo non è paura di punizione e di rimprovero come diceva Maurer no ma di aver violato gli imperativi interiori categorici le imposizioni del mio dovere il giusto di essere apposto con la mia coscienza e quindi questo mi sembra un punto importante mentre nella vergogna è vero che ho interiorizzato il valore ma lo scopo della vergogna non è proteggere il valore non è quello che mi motiva il valore quello che mi motiva è la stima degli altri l'immagine degli altri l'immagine degli altri anche se questo richiede che il valore sia condiviso di me ma il mio scopo non è proteggere il valore allora chiudiamo scusate su punti importanti che non abbiamo potuto fare che potete trovare perché è così importante valere per gli altri valere qualcosa per gli altri e anche per sé per esistere se non vali niente per gli altri cioè se non hai qualcosa da dire o da dare o da fare con gli altri se non hai poteri se non hai poterli poteri non esisti non nessuno farà qualcosa con me o per me abbiamo trascurato la teoria dei poteri e dei valori che avrebbe richiesto molta più teoria abbiamo trascurato il rapporto bellissimo con la presa in giro il deridere il bullismo eccetera eccetera il disprezzo e l'insulto che è un'altra faccia che è un'altra faccia e questo in particolar modo è rilevante per la teoria della pena e della compassione emozione meravigliosa e ambigua ma com'è possibile che una meravigliosa emozione umana e sociale come la compassione e la rispinta di aiuto e di pena possa essere insultante cioè fai compassione fai pietà com'è possibile e c'è una faccia ambigua perché contiene una valutazione negativa che può essere oggetto di derisione tutto ciò che suscita pena può suscitare derisione tutto ciò che suscita derisione può suscitare pena l'altra cosa che abbiamo trascurato è la teoria del pudore bene grazie per l'attenzione grazie infinito al professor Castelfranchi sono al solito illuminante stimolante immagino che abbia stimolato molte domande allora io volevo ricordare che soprattutto a chi ci segue da casa ai tanti collegati con zoom che c'è la possibilità di scrivere le domande nella sezione domande queste domande poi saranno lette durante la tavola rotonda quindi avremo l'opportunità di dibattere allora io passo grazie ancora a Cristiano passo ad introdurre il prossimo relatore che è il professor Mancini professore di psicologia clinica all'università Marconi di Roma nonché direttore delle nostre scuole di psicoterapia cognitiva il professor Mancini ci parlerà del rapporto tra vergogna e sensi di colpa bene allora grazie Angelo grazie a Cristiano per la sua per il suo intervento io volevo approfittare per esprimere anche io due parole a proposito di Giovanni Fossone e soprattutto volevo pubblicamente esprimere la mia gratitudine nei confronti di Giovanni per tre ragioni almeno una come direttore della scuola lui è stato per chi non lo sa ma uno dei più importanti trainer didatti formatori della nostra scuola di Napoli dove ha svolto il suo compito con grandissima perizia e disponibilità vorrei ringraziarlo esprimere la mia gratitudine nei suoi confronti anche come clinico come collega perché ha seguito dei pazienti che io gli ho inviato alcuni a me molto cari e devo dire con un'umanità e una disponibilità e una capacità veramente straordinarie e anche la gratitudine come amico come collega perché ha sempre dimostrato nei miei confronti come si diceva prima Antonella Ivaldi come era sua abitudine nei confronti di tutti grande amicizia e soprattutto grandissima lealtà quindi approfitto che ho la parola per poterlo ringraziare pubblicamente ora adesso io cercherò di come alcune cose l'ha già anticipata Cristiano quindi cercherò di rendere più breve più succinta la mia presentazione e cercherò di dedicarmi a due cose più principali una appunto a vedere le differenze fra colpa e vergogna e implicitamente contestare la tesi di Latangnei che ha ripreso anche Cristiano in alcuni punti e l'altra cosa su cui vorrei dare anche alcuni dati è sulla differenza del uso di due termini shame e vergogna shame vergogna o verguenza che in spagnolo che hanno praticamente sovrapponibile esattamente al termine italiano vergogna ma come vedremo non al termine shame e questo secondo me è di particolare purtroppo interesse perché quando uno studia le ricerche degli altri anglosassoni questo termine shame si capisce che cosa voglia dire allora molto succentamente allora la vergogna la tesi che ha sostenuto Cristiano è una accuratissima analisi anatomica diciamo così della vergogna che però ha una tradizione molto antica nel pensiero occidentale perché appunto già Aristotele la considerava la rappresentazione mentale di un evento che può gettarci nel discredito per Platone aveva a che fare con la cattiva reputazione per Darwin è legato al giudizio degli altri per William James è il social self quello che fa i giochi rispetto all'orgoglio e alla vergogna per l'appunto in sintesi adesso andrò veloce su questa parte perché ne ha parlato Cristiano e qui sinteticamente lo riassumevo ci si vergogna in sintesi estrema perché si fa una brutta figura ora ma questo semplice esempio notate che questo è un esempio che viene dalla Tangnei che non è banale ci sono tutti gli ingredienti di cui ha parlato Cristiano sintetizzati in pochissime righe questo è un resoconto vero insomma una testimonianza vera partecipare a una ragazza partecipava a un saggio di pianoforte anche se non aveva alcun desiderio ero molto ansiosa come sempre in queste occasioni ho suonato malissimo ho fatto un casino davanti a persone che avevano grandi aspettative su di me sono diventato tutta rossa in faccia le mani mi sudavano avrei potuto sprofondare una buca e non uscirne mai più credo che siamo tutti d'accordo che questo sia un'esperienza di vergogna scusami troppo vicino ok grazie ora invece il senso di colpa prototipico presume un'assunzione da parte di chi si sente in colpa che quello prototipico che una propria azione o omissione abbia causato un danno ingiusto a una vittima innocente assunzione anche che si sarebbe potuto agire diversamente cioè se sono stato costretto oppure non mi sento in colpa oppure se il danno è meritato boccio una un esame danno io lo faccio è meritato non mi sento in colpa gli scopi compromessi sembrano essere fondamentalmente di due tipi uno è aver compromesso il desiderio del bene dell'altro quindi uno scopo altruistico gli scopi altruistici sono molto interessanti perché non si considera mai a sufficienza che sono hanno due facce uno è lo scopo che l'altro abbia un bene o che non abbia un danno e questo scopo deve essere terminale direbbe cristiano cioè non deve servire non deve esserci un tornaconto e l'altra faccia che è poi sottovalutata è la vicinanza all'altro la condivisione all'altro per esempio molto semplicemente se io sono qualcosa mi va bene anche meritatamente e un mio compagno invece gli va male posso sentirmi in colpa io mi ricordo quando studiavo medicina studiavo molti esami l'ho fatti con uno che era stato un mio compagno del liceo e lui amava molto la medicina io per niente perché volevo fare psichiatra un po' di psicoterapia quindi non mi portava nulla e invece lui era una grande appassionata poi infatti è stato ho fatto una grande carriera come medico come radiologo in particolare e facevamo questi esami insieme allora succedeva sempre la stessa cosa che io prendevo sempre due tre punti più di lui ed era palese che lui la sapeva più di me la cosa quindi però io insomma in qualche modo o studiavo diciamo più l'essenziale o ero più abile nel sapere quello che andava saputo eccetera fatto sta che mi meritavo sempre un paio di punti in più e lui in me e questo suscitava in me da una parte una certa contentezza ma anche un certo senso di colpa e l'altro ingrediente l'altro scopo quindi è importante questo mi sfruttiamo soltanto un istante su questo voi pensate per esempio appunto in una stessa circostanza come quella di cui abbiamo rievocato poc'anzi supponiamo che una persona il mio carissimo amico ha una perdita subisce un lutto e io che cosa faccio in queste circostanze cerco come si dice partecipare al suo dolore cioè o vado al funerale o gli mando un messaggio comunque gli manifesto vicinanza condivisione se non lo faccio questo si può tradurre in un senso di colpa quindi sono due facce una faccia due facce dello stesso scopo che è l'altruismo l'altra faccia il scopo coinvolto nei sensi di colpa è il rispetto delle norme morali interiorizzate prima Cristiano evidenziava le opportunità di distinguere norme morali da norme convenzionali cioè un conto è che se uno sta a tavola è opportuno non mangiare con le mani se uno lo fa voglio dire però non ci si sente in colpa se invece io voglio dire per esempio dico una bugia tradisco qualcuno tradisco una norma mi se posso sentire in colpa non so se è chiaro c'è una differenza fondamentale fra le norme morali sono viste sentite come norme universali che valgono per tutti non è possibile cambiarle con una convenzione fra gli esseri umani con un accordo le norme convenzionali come quelle della buona educazione oppure le regole del tennis per dire sono invece modificabili vissute come contingenti appunto non universali ora io in realtà Cristiano su questo non è del tutto d'accordo con me ma comunque io distingo due sensi di colpa li accenno molto brevemente con due esempi allora il senso di colpa altruistico l'esempio secondo me più caratteristico è il senso di colpa del sopravvissuto anni fa e poi mi è capitato di leggere sul giornale un'intervista fatta una persona che è stata vittima di un incidente aereo non so se vi ricordate tanti anni fa ci fu un aereo che atterrava voleva atterrare a Palermo c'erano dei pescherecci che stavano sul mare di fronte all'aeroporto era notte avevano acceso le luci di posizione è vietatissimo era vietatissimo l'aereo il pilota ha scambiato le luci dei pescherecci per le luci della pista e quindi è atterrato sul mare in realtà non se n'è accorto quindi patapuffere ha dato motore non ce l'ha fatta e precipitano in mare circa la metà delle persone sono morte e l'altra metà si è salvata e c'era l'intervista a uno di queste persone che si era salvato che riferiva questo enorme a distanza di anni questo enorme senso di colpa in particolare nei confronti di un giovane carabiniere con cui aveva fatto il viaggio e con cui aveva scambiato una serie di piccole confidenze da quell'oretta di volo che era due ore di volo che era non so se veniva da Milano dove veniva lei insomma è quasi un forte senso di colpa per essere sopravvissuto lui per non aver partecipato non aver condiviso la stessa sorte in buona sostanza che è uno degli scopi dell'altruismo come abbiamo visto prima è interessante che non aveva senso di colpa nei confronti per esempio di altri passeggeri perché con quello accanto c'era si era instaurato una sorta di mini legame e gli altri erano troppo impersonali perché ci fosse una si attivasse una sorta di altruismo qui ce n'è un altro che però rascuriamo adesso vediamo un esempio di senso di colpa deontologico questa è una ragazza mi sono sentito in colpa quando uno dei sacerdoti mi ha chiesto se il duce mi aveva ridato l'uso della patente io gli ho risposto di sì anche se non era vero perché avevo ricominciato a guidare e non volevo che lui sapesse che disobbediva la legge dopo circa quattro giorni avevamo in chiesa per prepararci alla comunione e mi sono sentita così duramente accusata dalla mia coscienza per aver detto una bugia che ho dovuto confessare la verità prima di prendere l'ostia prima di fare la comunione ecco notate che in questo caso non c'è nessuna vittima la colpa è legata alla trasgressione di una norma che dice non si dicono le bugie quindi nell'altro caso non c'era la trasgressione di una norma a meno che non ce la vogliamo forzare dentro bisogna condividere la sorte dell'altro secondo me secondo tutta la letteratura è più un senso di colpa legato all'empatia agli affetti più che alle norme morali quali sono le differenze fra colpa e vergogna tradizionali la vergogna è considerata un'emozione pubblica e invece il senso di colpa è privata questa è una delle classiche diciamo distinzioni che vengono fatte che prove ci sono a favore di questa distinzione bene ci sono alcune prove empiriche che la vergogna sia più strettamente legata all'esposizione pubblica di una propria mancanza rispetto al senso di colpa mentre invece il senso di colpa sembra avere un legame speciale con i sentimenti associati a un turbamento interno della coscienza però c'è la Tangney che sostiene sulla base di una serie di risultanze sperimentali che nella maggior parte dei casi non solo le esperienze di vergogna ma anche quelle di colpa dice sono tipicamente sentite quando gli altri sono presenti adesso vediamo cosa vuol dire sono presenti vediamolo con un esempio che porta la Tangney di senso di colpa pubblico per contestare la tesi che sia un'emozione privata il conto è questo quando ero ragazzo sotto la spinta dei miei compagni ho cominciato a frequentare cattive compagnie fui preso dalla polizia incriminato per spaccio e possesso di armi per quasi un anno sono dovuto andare in tribunale tutto ciò mi ha fatto sentire molto in colpa perché era contro gli insegnamenti e le aspettative dei miei genitori e anche contro quelle della società ora qui è interessante perché certo che c'è dice la Tangney ma questo è tutti sanno che il tribunale tutti lo sanno che lui ha commesso questi reati quindi la sua colpa è pubblica sì ma l'oggetto della sua colpa non è il pubblico il pubblico è diciamo una contingenza il suo senso di colpa è legato a una sua condotta che trasgredisce delle norme non so se è chiaro quindi certo che è pubblica in un certo senso ma l'oggetto della colpa è la trasgressione di una norma non l'opinione degli altri è vero come diceva Cristiano certamente è possibile anche vergognarsi se nessuno lo sa ma potrebbe saperlo vergogna controfattuale uno se lo immagina l'ipotizza oppure anche ci si può vergognare di fronte allo specchio cioè se uno si osserva dall'esterno ma come diceva prima Cristiano mi sembra che la differenza fondamentale è nel tipo di giudizio nella vergogna il giudizio è per incapacità mancanza di poteri nella colpa è per un uso cattivo dei propri poteri per un uso immorale dei propri poteri questo ha anche un certo supporto empirico ci sono queste ricerche di Smith che ha fatto un lavoro splendido ma di tre anni fa da cui risulta che effettivamente la colpa è largamente associata con trasgressioni morali e la vergogna invece è connessa con esperienze di incompetenze non morali che non hanno a che fare con la moralità per esempio un difetto della persona un difetto del corpo o anche di inferiorità ma a volte anche effettivamente una vergogna può essere associata a trasgressioni morali non so se è chiaro quindi trasgressione morale colpa vergogna trasgressioni non morali ma a volte anche morali cioè però questo anche se vogliamo è banale è ovvio che ci si può vergognare di una propria colpa però qui è interessante un punto di tutte le colpe ci si vergogna ecco molto probabilmente no allora ci sono colpe che manifestano dimostrano una come dire una mancanza di poteri una pochezza d'animo probabilmente ci si vergogna pure io faccio sempre questo esempio se voglio dire succede che uno ruba 10 euro durante l'intervallo dalla borsa della collega e viene supponiamo scoperto si può sentire in colpa ma si può anche vergognare cioè è da pezzamenti quello di rubare 10 euro alla collega non so se mi spiego al contrario se le colpe sono dimostrano audacia forza determinazione potere e le cose secondo me vanno in maniera diversa c'è un esempio molto interessante che mi è capitato di vedere su youtube con cutelli ha scritto anche un libro che ha paura dell'uomo nero con cutelli che non so ve lo ricordate probabilmente ma è stato un terrorista nero che è stata poi condannata del gastolo perché ha ucciso diverse persone ma in particolare il giudice occorso quello che è stato interessante è che lui in un'intervista pubblica a un certo punto l'intervistatore lo mette all'angolo e gli dice qui alla trasmissione stanno partecipando anche sta partecipando anche il figlio del giudice occorso lei che sentimento prova nei suoi confronti dice nessuno cioè non ho nessuna vergogna non ho nessuna difficoltà a confrontarmi con il figlio del giudice occorso ma ho un rimorso tremendo che ancora mi massacra ed è legato all'idea ma come ho potuto essere così creduto di me così da poter pensare di decidere sulla vita e della morte di un'altra persona che è un senso di colpa squisitamente deontologico palesemente sconnesso nella sua esperienza dalla vergogna ci si può sentire in colpa per una vergogna vediamo l'inverso probabilmente sì per esempio se io mi vergogno di avere un amico handicappato per dire ma comunque non sempre ci si sente in colpa per qualcosa di cui ci si vergogna come diceva prima Cristiano per un difetto fisico non ci si vergogna il disvelamento è un'altra caratteristica e questa nella vergogna serve una sorta di disvelamento la ragazza suonava il pianoforte e sapeva che tutti ci sarebbero aspettati una buona performance e quindi lei disvela la sua incapacità nella colpa è irrilevante il disvelamento cioè se gli altri sappiano o non sappiano caso di Concutelli che tutto il mondo sa insomma la larga parte dell'universo sa che lui ha ammazzato qualcuno e non è che questo modifica il suo senso di colpa è irrilevante è una cosa che non ha a che vedere con il fatto che gli altri lo scoprono o non lo scoprono se senti in colpa anche se sa che gli altri l'hanno bello che scoperto un altro punto interessante la vergogna risente molto delle persone di fronte ai quali si fa brutta figura se sono persone della cui affetto della cui disponibilità della cui amicizia siamo certi ci vergogniamo di meno se sono persone che siamo certi che non vedremo mai più ci vergogniamo di meno la stessa cosa non vale per il senso di colpa è abbastanza irrilevante se chi viene a sapere della mia colpa la correlazione con gli stati d'animo le ricerca cosa ci dice la vergogna ma non il senso di colpa tende a correlare con l'imbarazzo con il sentirsi umiliati con sentimenti legati comunque alla presenza di qualcuno che giudica questo è un punto importante che ritroveremo dopo parlando di sceme la presenza di qualcuno che giudica l'intensità del senso di colpa ma non della vergogna correva con il rimorso con il regret col turbamento della coscienza nelle ricerche fatte con Barbara Basile emerge anche che il senso di colpa altruistico si accompagna a tristezza e pena il senso di colpa teotologico può accompagnarsi più facilmente a vergogna con il processo che dicevo prima il rapporto che dicevo prima ma anche a tristezza e in maniera molto caratteristica al disgusto cosa che non succede con la vergogna la disposizione all'azione abbiamo visto prima in sostanza la vergogna è mettersi sotto il mattone cosa vuol dire allontanarsi sottrarsi agli altri nel senso di colpa la disposizione è al contrario è verso l'altro nel caso del senso di colpa altruistico è per riparare aiutare condividere nel senso di colpa teotologico è chiedere scusa perdono confessare fare penitenza quindi sono due due disposizioni all'azione opposte nella vergogna c'è l'allontanarsi il sottrarsi nel senso di colpa invece andare verso l'altro o per chiedere perdono o per aiutare per riparare interessante questa cosa qui c'è un altro punto che secondo me non banale il senso di colpa attiva disposizioni che possono rimediare la colpa al contrario la vergogna attiva disposizioni che possono soltanto tamponare la vergogna ma non rimediarla se hai fatto brutta figura hai fatto brutta figura se stai tornare la tua immagine può essere un lavorone ma mi spiego puoi prevenirla puoi cercare di sottrarti ma una volta che è successo non c'è molto spazio di manovra nel caso della colpa invece sì questo forse potrebbe spiegare perché la vergogna può essere più dolorosa più incisiva anche più ricordata e poi ci sono tutte le caratteristiche diciamo più più fenomenologiche il classico della colpa è il blushing il rossore la sudorazione il tremore il balbettio lo sguardo basso ci si osserva dall'esterno il pensiero rumina sulla brutta figura su quello che può essere il giudizio dell'altro c'è l'aspettativa di essere ridicolizzati e messi in disparte nel senso di colpa invece è diverso la sensazione che viene riferita più spesso è di peso di peso sulle spalle o la postura o di oppressione al petto basta chiedere ai pazienti che sentono in colpa dove la sentono il più delle volte riferiscono queste due sensazioni la postura è curva dimessa la mente nel caso del senso di colpa altruistico va alla sofferenza al danno dell'altro infatti non è a caso che si attivano zone del cervello deputate alla teoria della mente cioè la mente va verso la testa dell'altro verso la sua sofferenza nel senso di colpa deontologico pure questo l'abbiamo riscontrato nelle ricerche la mente si riempie di autori improveri e c'è l'aspettativa soprattutto nel senso di colpa deontologico ma non soltanto che di essere disprezzati aggrediti scacciati accennava prima la tesi della Tangney che nella vergogna il fuoco sulla passione sarebbe il self e nel senso di colpa un proprio comportamento e non il sé nella sua totalità su questo ci sono diverse prove a favore e contro sperimentali non mi ci soffermo ma c'è secondo me una possibile ragione di questa intuizione una è che la brutta figura coinvolge inevitabilmente tutta la persona è l'immagine di me agli occhi degli altri che è compromessa nel senso di colpa la valutazione del focus tende a essere una propria azione per la quale mi sento in colpa però fermo restando che come accennava prima Cristiano e come abbiamo riscontrato anche in alcune ricerche c'è un'inferenza nel senso di colpa soprattutto se è grave a tutto il sé e soprattutto nelle colpe deontologiche per esempio per i tradimenti e cose di questo genere non c'è la distinzione non è intuitiva affatto la distinzione fra il peccato del peccatore cioè si acchiappa tutt'uno la rabbia è verso la persona non che non discrimina quindi ok la tesi della Tangney dice che è più grave la vergogna del senso è più grave la vergogna del senso di colpa questo è estremamente discutibile sappiamo che il senso di colpa può portare al suicidio quindi mi sembra impausibile dire affermare una cosa di questo genere probabilmente lei l'ha affermato per un difetto metodologico cioè se chiedi a una persona scrivi un tuo senso di colpa scrivi una colpa minore scrivi una cosa per cui ti vergogni forse vai giù più pesante insomma ti difendi di meno shame vergogna verguenza guilt e colpa coincidono e adesso arriviamo a quest'altro punto secondo me di grande importanza perché di grande importanza noi abbiamo fatto ecco Katia Tenore è stata la prima attrice una ricerca sulla la image di vitrescripting nelle memorie di rimproveri nei pazienti ossessivi ci sono altre ricerche su questo identiche sostanzialmente identiche dove però gli episodi ricordati sono definiti shame e tu li vai a vedere e dici ma come shame perché questa è colpa non è vergogna insomma c'è un'ambiguità non banale in questo anche gli studi in neuroscienze dice quindi hanno indotto vergogna hanno indotto shame o hanno indotto guilt sì ma che cosa vuol dire veramente allora vediamo questo esempio che la Tangney lo usa come esempio di di shame quando era alle medie mio fratello comprò un giornaletto pornografico lo nascose nel suo cassetto lo trovai lo guardai lo rimisi a posto mia madre lo trovò sgridò mio fratello davanti a me non sapeva che anche io lo avevo guardato I was so ashamed di averlo guardato ed ero così spaventato che sgridasse anche me che rimasi seduto in silenzio la maggior parte dei parlanti italiani direbbe mi sono sentito così in colpa non mi sono così vergognato tant'è che ero spaventato di essere sgridato e piuttosto che mi sono così vergognato che ero spaventato di essere sgridato non so se è chiaro quindi useremmo più daremmo più enfasi all'aspetto morale che al giudizio di inadeguatezza da parte della madre due ricerche voglio citare la prima è fatta con degli spagnoli e da cui risulta poi vediamo qualche esempio che il termine shame nei soggetti americani era associato a trasgressioni di norme morali mentre i soggetti spagnoli associavano al termine vergüenza da apparire ridicoli in pubblico c'è una differenza fondamentale una scema una alone morale che il termine vergogna non ha quindi usurpa qualcosa che appartiene all'alone semantico del termine italiano colpa abbiamo fatto una ricerca con alcuni colleghi Giorgetta Capuzzo Evangelista Magno Starpini che fanno parte della scuola hanno fatto il project hanno fatto una ricerca molto interessante in cui sono state costruite delle vignette di vergogna con gli ingredienti previsti da cristiano e delle vignette di colpa con gli ingredienti previsti nel senso di colpa prototipico e poi l'abbiamo data a dei soggetti italiani e gli abbiamo chiesto di etichettarli con la parola vergogna o con la parola colpa e poi abbiamo tradotto in inglese e l'abbiamo data ai soggetti americani chiedendoli di mettere l'etichetta shame e l'etichetta guilt allora cosa è venuto fuori sostanzialmente questo che quelle costruite con gli ingredienti della colpa quindi con evidenti trasgressioni morali erano dominate dagli americani spesso come shame e non come guilt mentre invece in sostanza gli italiani usavano il termine vergogna molto di meno adesso poi vi faccio vedere il grafico così si capisce anche meglio e invece usavano di più colpa vi faccio vedere il grafico guardate a sinistra non so se è alla vostra sinistra sì signori gli scenari erano di vergogna guardate sostanzialmente l'uso delle parole vergogna e shame colpa e guilt sono abbastanza simili guardate i scenari colpa come sono diversi vergogna è usata molto meno di shame colpa è usata molto più di guilt e più spesso usano tutti e due i termini guilt e shame mentre invece colpa e vergogna sono usati insieme molto di meno non so se è chiaro quindi scenari di colpa costruiti con tutti gli ingredienti della colpa sono considerati più facilmente con il termine shame che con il termine guilt e sono più usati da noi italiani questi scenari sono connotati con il termine colpa e molto meno con il termine vergogna ora per darvi un po' un'idea e tendo adesso 5 minuti chiudo anche prima quindi in buona sostanza questo è un problema non banale che è complicato guardate il secondo punto c'è un concetto molto diffuso nella letteratura sul self-criticism che è il concetto di inner shame di Gilbert e questo sancisce definitivamente la confusione perché adesso la vergogna internalizzata a questo punto andiamo tutti a casa perché il termine shame a questo punto assume sussume qualunque tipo di critica auto o etero critica che sia e a questo punto invece di guadagnarci ci rimettiamo forse perché uno si chiede ma dove mettono loro la differenza fra shame e guilt nel caso di eventi che noi denotiamo come colpa forse guardando un po' gli esempi sembrerebbe ma su questo prendeteci 12.000 punti interrogativi che la tendenza è di usare shame invece che colpa noi useremmo colpa in questi scenari per quando c'è un giudice esterno che esprime anche una giudizio morale che fa sentire in colpo una colpevolizzazione dall'esterno allora lì forse è più facile che venga usato il termine shame però su questo prendetelo non solo con le pinze ma con mille punti interrogativi è una possibilità darvi un po' un flash questa bellissima ricerca degli spagnoli allora dice il feeling che emerge quando le persone fanno qualcosa contro i propri stessi valori morali molte volte usato shame molto poco usato verguenza la timidezza è la causa di shame o verguenza soprattutto è di verguenza la timidezza non è vista come causa di shame vediamo ancora shame e verguenza sono relati al fine della colpa verguenza shame sì verguenza no l'incongruenza fra quello che le persone pensano che dovrebbero essere e quello che realmente sono cosa viene usato dagli americani viene usato shame ma non viene usata verguenza dagli spagnoli e così ci sono 29 caratteristiche 25 delle quali solo 4 sono uguali shame e verguenza tutti gli altri 25 sono spiazzati le due etichette verbali sempre con uno strabordare dello shame nella nella line della della colpa della trasgressione morale non ve le leggo tutti in sostanza quindi vergogna e senso di colpa diverse perché sorvegliano scopi diversi la vergogna è un scopo della buona immagine è un senso di colpa scopi altruistici o scopi deontologici scema un significato morale che vergogna e verguenza non hanno e ciò crea un problema non banale nell'interpretazione della ricerca bene vi ringrazio per l'attenzione mi lascio mai prego mi lascio mai poi ancora in tieni allora grazie grazie tantissimo al professor Mancini non si finisce mai di capire di aggiungere con Francesco e poi ricordiamo ancora invece il convegno d'inverno dell'anno prossimo del 2024 adolescenza e vulnerabilità il tema dell'identità di genere si terrà il 26 gennaio del 2024 possiamo riprendere il nostro il nostro convegno ci sono già tantissime domande sto facendo una fatica enorme nel selezionarle e quindi già i due primi interventi del professor Castelfranchi e del professor Mancini hanno stimolato domande dubbi riflessioni obiezioni polemiche di tutto e adesso parlerà invece il professor Farina un professor ordinario di psicologia clinica all'Università Europea di Roma ci parlerà Benni del rapporto tra vergogna e trauma in particolare della vergogna post traumatica intesa se ho capito bene Benni puoi spiegare più come attitudine come tratto che come sintomo proprio come esito diciamo stabile strutturale di un trauma pregresso allora lascio il microfono e la parola a Benni allora aspettate un attimo che prendo l'orario perché se no sforo ma tu Angelo mi chiami poi cinque minuti si per favore ho avuto modo di ringraziare Francesco Mancini privatamente lo faccio pubblicamente quando lui mi chiamò per chiedermi di partecipare a questa giornata intanto perché diciamo si commemano la memoria di insomma diciamo di miei maestri e anche di Giovanni anche Giovanni sarà un maestro per certi versi e ma ma anche perché mi dà la possibilità di condividere con voi alcune riflessioni quindi se no diciamo meno normativo dei professori Castelfranchi e Mancini perché le mie più che altro sono ipotesi quindi diciamo vorrei lasciare più domande che convinzioni e dicevo a Francesco quando lui mi ha chiamato e mi ha appunto raccontato del tema io ne fui molto convinto perché non tanto tempo prima in una pagina di questo libro che è I sommersi e I salvati di Primo Levi avevo trovato proprio in una pagina specifica un passaggio che mi aveva molto incuriosito allora e tra l'altro oggi il 27 gennaio è il giorno della memoria per cui diciamo colgo anche questa occasione per parlare dell'esperienza appunto traumatizzante dell'Ager Primo Levi è stato è considerato internazionalmente forse diciamo lo scrittore che l'intellettuale che maggiormente ha sottolineato l'aspetto traumatico dell'Ager in che modo perché lui diceva lo sappiamo tutti lo aveva fatto attraverso la scrittura del suo primo libro che è un racconto una narrazione una cronaca della vita nell'Ager se questo è un uomo e Primo Levi fondamentalmente ha insistito tutta la vita su una questione centrale ciò che avveniva nell'Ager il valore traumatizzante dell'Ager era dato dal fatto che gli internati nell'Ager venivano totalmente deumanizzati cioè privati totalmente dalla loro dignità di esseri umani e e questo infatti in tutta la letteratura scientifica è considerato uno degli aspetti uno dei possibili diciamo una delle possibili configurazioni del trauma complesso e addirittura Primo Levi usa dei termini molto precisi e molto forti lui diceva che i nazisti nei Lager nazisti dove lui è stato internato si usava la dottrina del disprezzo che era un disprezzo che arrivava ad avere degli acuti inimmaginabili per certi versi perché perché era proprio teso il disprezzo verso gli internati era proprio teso a non farli più sentire degli esseri umani tra l'altro questo è descritto molto bene appunto in questo saggio questo è un saggio se questo nome è stato scritto nel 47 subito dopo che Levi era tornato giovanissimo era tornato superstito dal Lager mentre invece questo è un saggio non è un racconto cioè sono due tre elementi di racconto nel saggio ma sono poverissimi in realtà quella che lui compie a distanza di 40 anni è una riflessione su quello che è successo una riflessione che tra l'altro ovviamente lui ha articolato composto non solo maturando alcune convinzioni ma confrontandosi con l'esperienza di tanti altri sopravvissuti non soltanto dai Lager nazisti ma dai Gulag eccetera e così via ok e lui lo fa perché in tutti i capitoli di questo libro ce n'è uno ce ne sono due in particolare che mi hanno colpito uno il secondo capitolo che è proprio intitolato La vergogna e un altro che è intitolato La comunicazione lui specifica una cosa molto interessante lui dice la comunicazione è il linguaggio nel Lager già il linguaggio e la comunicazione erano fatti per impostati per non far più sentire i prigionieri come degli esseri umani tant'è che lui racconta una serie di cose interessantissime cioè che il Lager di Argon cioè il gergo il linguaggio del Lager era un tedesco estremamente impoverito perché intanto perché diciamo la maggior parte dei nazisti che lavoravano là erano molto poveri dal punto di vista culturale e linguistico ma anche perché tra l'altro si rivolgevano alle migliaia migliaia alle decine di migliaia di ebrei e anche dissidenti politici raccolti da tutta Europa solo con questo tedesco impoverito ma la nostra grande maggioranza non parlava tedesco quindi lui faceva notare come i nazisti davano degli ordini e se tu non eseguivi degli ordini perché non parlavi tedesco comunque sia questi ti bastonavano e ti uccidevano loro pretendevano che tu capissi nonostante il fatto che loro parlassero una lingua perché è incomprensibile è molto interessante perché lui dice ti trattavano come noi parliamo con gli animali domestici come al cane al gatto che tu gli dici dai vieni qua fai questo fai quest'altro ma ovviamente noi non immaginiamo che loro possano capire è tutto il non verbale un altro esempio che trovai drammaticamente interessante è che mangiare il verbo mangiare che si usava nel lager era pressen che in tedesco si usa soltanto nel senso di dare da mangiare agli animali non agli esseri umani e l'ultima cosa su questa questione del linguaggio è data al fatto che lui racconta un episodio su questo libro in cui a un certo punto un capò deve riferire alla guardia militare nazista deve riferire diciamo del numero di internati di prigionieri dentro una baracca cioè deve fare la la conta dei prigionieri e dice non so 35 presenti 35 uomini quello lo guarda scandalizzato fa non uomini menschen tedesco non uomini 35 internati ok quindi il senso era questo ora nel capitolo invece della vergogna lui comincia a parlare dei sentimenti che si sono sviluppati in quelli che lui chiama i salvati opponendoli ai sommersi dell'ager ma alla fine diciamo la conclusione molto drammatica di questo saggio è che quelli sono sopravvissuti ma non si sono davvero salvati neanche lui sente di essersi salvato e una diciamo degli elementi di questa mancanza di salvezza è proprio il fatto di aver interiorizzato una vergogna che nella letteratura scientifica sul tramo viene chiamata pervasiva ma come vedremo e Angelo prima accennava sembra essere una vergogna diciamo costituzionale di tratto non di stato non mi vergogno perché ho fatto qualche cosa che mi ha fatto fare una brutta figura ma mi vergogno perché mi sento indegno di base costituzionalmente indegno ok volevo leggervi due passaggi che io trovo molto interessanti quando a un certo punto i russi entrano dentro ai lager ormai lasciati abbandonati dai soldati nazisti Levi che lo descrive però in un altro libro che è la tregua dice scrive non salutavano non sorridevano apparivano oppressi oltre che da pietà da un confuso ritegno che sigillava le loro bocche e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo era la stessa vergogna a noi ben nota quella che ci sommergeva dopo le selezioni ed ogni volta che ci toccava assistere a sottostare ad un oltraggio la vergogna che i tedeschi non conobbero quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altrui e qui c'è di nuovo il rapporto tra vergogna e colpa e che gli rimorde che esita che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono e che la sua volontà sia stata nulla o scarsa non abbia valso a nessuna difesa poi lui a un certo punto continua in questo capitolo scrivendo all'uscita dal buio si soffriva per la riacquistata consapevolezza di essere stati menomati la uscita dal buio è un'espressione metaforica proprio per intendere quando questi sono stati liberati anzi i tedeschi se ne sono scappati e i russi sono arrivati ma per chi conosce la tregua che ha letto la tregua sa benissimo quelli sono rimasti là perché non sapevano dove andare non c'erano vestiti cibo acqua non c'erano nulla mezzi per spostarsi nulla ok all'uscita dal buio si soffriva per la riacquistata consapevolezza di essere stati menomati non per volontà né per ignavia né per colpa avevamo tuttavia vissuto per mesi o anni ad un livello animalesco le nostre giornate erano state ingombrate dall'alba alla notte dalla fame dalla fatica dal freddo dalla paura e lo spazio di riflettere per ragionare per provare affetti era totalmente annullato avevamo sopportato la sporcizia la promiscuità la destituzione soffrendone assai meno di quanto ne avremmo sofferto nella vita normale perché il nostro metro morale era mutato inoltre tutti avevamo rubato alle cucine della fabbrica al campo alla controparte eccetera e così via avevamo dimenticato non solo il nostro paese la nostra cultura la famiglia il passato il futuro che ci eravamo rappresentato perché come gli animali eravamo ristretti al momento presente da questa condizione di appiattimento eravamo usciti solo a rari intervalli nelle pochissime domeniche di riposo nei minuti fugaci prima di cadere nel sonno durante la furia dei bombardamenti aerei ma erano uscite dolorose proprio perché ci davano occasione di misurare dal di fuori la nostra diminuzione ed è una diminuzione proprio di diciamo esseri viventi ovviamente e continua la denutrizione la spoliazione e gli altri disagi fisici che è così facile ed economico provocare in cui i nazisti erano maestri sono rapidamente distruttivi e prima di distrugge paralizzano questo è un termine che io vorrei che voi ricordaste perché lo ritroviamo poi nella dittatura del trauma tanto più quando sono preceduti da anni di segregazioni umiliazioni maltrattamenti migrazioni forzate eccetera e così via bene voglio arrivare direttamente alla pagina che mi aveva colpito moltissimo qualche anno fa perché mi ha stimolato questa riflessione ed è questa fondamentalmente lui scrive in questa pagina lui a un certo punto in questa pagina cambia totalmente stato mentale totalmente convinzione dice prima una cosa e poi gli dice esattamente un'altra la pagina è dedicata appunto a coloro che si sono salvati lui diceva anzi ve la leggo direttamente al mio ritorno dalla prigionia è venuto a visitarmi un amico più anziano di me mite ed intransigente cultore di una religione sua personale che però mi è sempre parsa severa e seria era contento di ritrovarmi vivo e sostanzialmente indenne ma forse maturato e fortificato mi disse che l'essere io sopravvissuto non poteva essere stata opera del caso di un accumularsi di circostanze fortunate come sostenevo e tuttora sostengo io sottolineo lui era cioè Primo Levi diciamo una parte di Primo Levi è sempre stata convinta che era soltanto un caso che lui si fosse salvato in realtà sappiamo che non è vero neanche questo perché che noi sappiamo che Primo Levi si è salvato dalla morte certa perché era un chimico e perché conosceva un po' di tedesco e il fatto di essere un chimico lo diciamo lo portò ad essere utile ai tedeschi che avevano aperto una fabbrica della gomma vicino ai compound di Auschwitz Birkenau e Levi anche in altre pagine di questo di questo saggio continua a dire è stato il caso che mi ha salvato non era un merito mio è soltanto un caso ma pochissime righe dopo dice i salvati del lager però non erano i migliori i predestinati al bene come sosteneva l'amico religioso i latori di un messaggio quanto io avevo visto e vissuto dimostrava l'esatto contrario sopravvivevano di preferenza i peggiori gli egoisti i violenti gli insensibili i collaboratori della zona grigia le spie non era una regola certa non c'erano non ci sono regole certe delle cose umane ma era pure una regola mi sentivo sì innocente ma intrippato fra i salvati e perciò la ricerca permanente di una giustificazione davanti agli occhi miei e degli altri sopravvivevano i peggiori cioè i più adatti i migliori sono tutti morti quando quando io ho letto questa pagina ho trovato quella molteplicità contraddittoria tra l'altro che si trovano le persone che chiamiamo così si salvano emergono dal trauma sia da diciamo non da eventi traumatici lo sappiamo benissimo ma da quello che viene chiamato traumi complessi ok cioè l'essersi dovuto adattare ad una condizione di appunto di minaccia estrema procurata da qualcun altro per molto tempo ehm molto velocemente ehm vi voglio soltanto ricordare che in tutte le categorie diagnostiche che hanno tentato di iscrivere gli esidi dal trauma è presente la vergogna come elemento fondamentale della fenomenologia del trauma c'è appunto nel in quello che era stato proposto come complex PTSD dal gruppo di Bessel van der Kolk nel 2005 c'è nel complex PTSD che viene descritto nell'ICD11 che è stato formalizzato nell'ICD11 tra l'altro cita l'ICD11 cita appunto i campi di concentramento come una diciamo delle condizioni tipiche del complex PTSD e appunto diciamo tra le caratteristiche quelle diciamo che loro dicono fanno parte del complex del complex PTSD e che le separa dal PTSD diciamo cosiddetto di base loro mettono problemi della regolazione delle emozioni credenze su di sé come diciamo svaloriato perdente e soprattutto worthless cioè indegno accompagnato che si accompagnano queste credenze da sentimenti di shame di vergogna colpa o fallimento ok ecco questo è un passaggio però molto interessante cioè già i colleghi delle ICD11 separano il senso di indegnità poi da un esito possibile dell'indegnità che è per esempio la vergogna anche se ormai non so più cosa vuol dire la vergogna grazie a Francesco Mancini ho capito che quantomeno quello che c'è scritto beh diciamo quantomeno quello che nella letteratura anglosassone è descritto come shame la stessa cosa era stata fatta per il PTSD questo qua è il vecchio DSM IV che non sapendo come mettere gli esiti del trauma complesso non potevano accettare il trauma complesso ma questo è un altro discorso Piniro nell'ultima pagina scrive che quando i traumi sono infantili di natura impersonale diciamo al quadro del PTSD classico si aggiungono difficoltà nella modulare le emozioni autodistruttività bla 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 e alla fine anche appunto sensazioni di essere permanentemente danneggiati ritiro sociale disperazione vergogna ok e anche quello che è stato poi tra l'altro un'evoluzione direi credo anche molto più utile per i clinici del complex PTSD che è il developmental trauma di sordo e il disturbo traumatico dello sviluppo anche là diciamo una delle caratteristiche di questo quadro diagnostico sono i sentimenti di avversione per se stessi il senso di inaiutabilità questo è un aspetto molto importante a proposito di potere di cui parlava Cristiano prima del potere che ci dà il valore convinzioni di mancanza di valore incapacità a essere sbagliati o difettosi mi fa ricordare una paziente che tu mi hai ricordato che mi hai mandato tanti tanti anni fa dove Antonio disse senti bene ma questa paziente è una di quelli che si sente proprio di essere proprio difettosa dentro non è che avevo capito bene quello che mi avessi detto Antonio l'ho capito dopo ok e adesso vado velocemente ma insomma poi posso lasciare le diapositive ma la cosa interessante appunto è che poi in tutte le metanalisi in cui diciamo si studiano gli esiti appunto dei traumi anche del PTSD semplice continua a diciamo essere sottolineata qualche cosa diciamo che ha a che fare con lo shame vergogna colpa ok ma una cosa molto importante quello che ci dicono diciamo poi questi studi anzi soprattutto diciamo quello che viene sintetizzato nelle metanalisi è questo che non è la vergogna come diciamo forse è stata descritta fino adesso cioè non è una vergogna di stato quella che ha descritto molto bene Cristiano prima della pausa sembrerebbe una vergogna di tratto qualche cosa che ripeto è costitutiva dell'individuo assimilata appunto tale che comunque sia tu ce l'hai indipendentemente da diciamo da quello che fai o non fai e la stessa cosa se la sappiamo la ritroviamo in un altro dei quadri clinici più tipicamente legati all'esperienza traumatico soprattutto dello sviluppo che è il disturbo borderline tanto è molto interessante perché questa meta analisi dell'anno scorso di un anno e mezzo fa sul rapporto tra shame e borderline disturbo di personale borderline non solo si sottolinea che anche là è una shame di tratto che è molto legato tra l'altro alle tendenze al suicidio e comportamenti impulsivi ma è un'altra cosa molto interessante è che sembra questo quello che hanno trovato questi studiosi facendo appunto raccogliendo i dati degli altri studi che diciamo alti livelli di shame di vergogna sembrano diciamo prevenire la possibilità di integrare tra l'altro le memorie in generale ma le memorie del trauma in particolare se noi andiamo a vedere qual è la patogenesi e la clinica della vergogna patologica della vergogna da trauma noi vediamo che questa qua sembra essere legata proprio a qualche cosa che ha a che fare con una sorta di indegnità dolorosa questo è quello che viene descritto dalla 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 letteratura internazionale perché penso che sia un punto importante questo perché appunto forse noi dovremmo differenziare tra le emozioni che hanno con il loro carattere rappresentativo come dicevi tu cristiano quindi vergogna colpa eccetera eccetera da qualche cosa che forse precede che è qualcosa che diciamo che non è diciamo che è quasi senza parole io per questo l'ho chiamata muta e dolorosa che è proprio un senso di indegnità profondo e costitutivo gli psicopatologi dello sviluppo hanno tentato una serie di spiegazioni su come si possa costituire questo senso di indegnità muta e dolorosa per esempio questo è uno studio di tanti anni fa ma uno studio che è stato raccolto dagli studi successivi pubblicato su Child Development nel 96 dove Alessandro e Lewis ti dicono fondamentalmente che lo si vede molto bene diciamo la vergogna dei bambini che sono che vivono diciamo che sono adattati ad un ambiente traumatico proprio perché dai due anni in poi laddove sembra appunto diciamo si dovrebbe sviluppare la capacità di valutare le proprie competenze anche in risposta delle aspettative degli altri genitori ma non soltanto dei genitori bene ecco là cominciano a emergere questi elementi di vergogna diciamo in chi in quei bambini che hanno avuto diciamo fondamentalmente delle madri trascuranti o abusanti e che sono risultate nella descrizione poi di questi studi come meno responsive meno espressive controllanti e poi fino ad avere proprio atteggiamenti fisici e verbali che non solo ostacolano la formazione dell'orgoglio ma sono attivamente ipercrisi e quindi lo inibiscono anche attivamente forse diciamo ancora più interessante quello che ci dicono altri psicopatologi dello sviluppo per esempio Alan Shore che va ancora più diciamo approfondisce la sua il suo ragionamento su aspetti chiamiamoli così se vogliamo ancora più intrapsichici lui dice fondamentalmente anzi direi quasi etologico evoluzionistici lui dice che la vergogna del trauma segnalerebbe la tendenza a bloccarsi e l'emozione con cui si accompagna il blocco per questo si chiedeva dell'impotenza cristiana l'impotenza e il blocco di fronte al caregiver minaccioso perché in quel punto il caregiver è minaccioso e io devo dare un segnale di resa e c'è tutta la letteratura sulla vergogna come emozione che fa parte appunto diciamo dello scontro agonistico e della resa ed era stato uno tra l'altro degli elementi di riflessione molto forte di Gianni Liotti credo però a me però questa cosa io glielo disse anche quando Gianni era vivo che non mi aveva convinto del tutto c'era qualche dubbio che ancora io avevo in testa rispetto alla vergogna non soltanto come emozione legata appunto diciamo a una situazione agonistica e l'altro elemento e ci torneremo l'altro elemento molto che diciamo molto interessante dato dal fatto che alcuni ipotizzano e parzialmente dimostrano che la vergogna che si struttura così questa vergogna di tratto diventa poi purtroppo un elemento di vulnerabilità successiva perché diciamo il bambino e poi l'adolescente l'adulto che si vergogna si pone in situazioni che lo ritraumatizzano la vergogna stessa diventa l'esperienza di vergogna stessa così come appena descritta diventa esperienza di ritraumatizzazione ci sono degli studi per esempio diciamo di psicologia cognitiva che che sostengono questo è uno studio relativamente recente del 2018 che sostengono che i bambini con un trauma relazionale precoce sembrerebbero avere uno sbilanciamento in quella che viene chiamata la source attribution l'attribuzione la sorgente da cui uno riceve informazioni per poi diciamo costruire il proprio valore personale e questi studiosi non solo loro sostengono che i bambini maltrattati con attaccamento traumatico tendono a diciamo a essere a trarre informazioni sul proprio valore molto più dagli altri che da se stessi appunto diciamo confrontati con con i bambini che non sono stati maltrattati in realtà ci sarebbe poi la fobia della vergogna del corpo che sarebbe un capitolo a parte ci vogliono sei ore solo a parlarne quindi lo salto alla fine se noi andiamo a fare una sintesi della letteratura noi ci troviamo che da una parte viene descritto il fatto che le esperienze di negletto da una parte e anche proprio abuso attivo determinano una rappresentazione di sé appunto come scarso valore fino a proprio l'inadeguatezza e l'indegnità proprio ieri pomeriggio la mia ultima paziente sosteneva proprio questo piangendo a un certo punto dopo un anno di terapia dice ma io in fondo mi sento sempre inadeguata non ho detto indegna ma mi sento sempre inadeguata qualsiasi cosa succeda poi lo diceva lei stessa ok i due aspetti però che si che si legano delle questioni cliniche terapeutiche che poi saranno poi il focus dell'ultimo diciamo degli ultimi elementi della mia presentazione di oggi pomeriggio sono queste che purtroppo queste esperienze sia in generale esperienze di maltrattamento abuso sia proprio la costituzione la strutturazione di questa indegnità dolorosa purtroppo agiscono poi paradossalmente su altre funzioni mentali quindi diciamo favorendo il mantenimento di questo stato di questa rappresentazione di sé diciamo più o meno consapevole dico più o meno consapevole perché credo che la vergogna sia il risultato di quando questa indegnità dolorosa sia diciamo consapevole ma a volte può non essere consapevole e per esempio appunto quei processi cognitivi di cui abbiamo parlato prima e anche per esempio le alterazioni metacognitive sembrano rafforzare circolarmente il mantenimento di questo della vergogna o quantomeno diciamo dell'indegnità dolorosa e l'altro aspetto è dato al fatto che le risposte compensative all'indegnità dolorosa e alla vergogna quando questa quindi è consapevole come per esempio appunto l'impotenza la sensibilità alla svalutazione la rabbia narcisistica eccetera e così via anche quelli diventano entrano in circolarità interpersonali che appunto rischiano di confermare la rappresentazione mentale temuta ok qual è diciamo un elemento diciamo che io ho pensato di parziale originalità rispetto alla letteratura che noi troviamo e questo elemento diciamo l'ho in parte derivato proprio da diciamo così di un'ipotesi una categorizzazione che Cristiano Castelfranchi ipotizzò insieme a come si chiama Poggi? Isabella Poggi diciamo nell'ottantotto Cristiano Castelfranchi aveva ipotizzato che diciamo che appunto gli scopi che falliscono e che hanno quindi come esito la vergogna sono essere ammirati essere accettati ricevere attenzione il problema è che diciamo almeno gli ultimi due non hanno a che fare con il valore inteso come rapporto di potere e anche di valore insieme con gli altri e quindi diciamo che possono configurare che ci fanno entrare in un panorama da sistema di valori di valore personale quindi diciamo di rango agonistico eccetera e così via ma hanno a che fare invece con il problema di non essere sufficientemente degni di ricevere quella attenzione quella protezione non soltanto dalla mamma ma anche dal gruppo sociale dagli altri adulti e del gruppo sociale su questo sono sicuro che con Gianni ci saremmo già avevamo iniziato un po' a discutere ho la presunzione di pensare che se avessimo potuto continuare a studiare insieme forse ve l'avrei convinto guardate cosa come concludono questi due studiosi più di dieci anni fa in questo articolo sulla social acceptance alla rejection dicono da un punto di vista evoluzionistico diciamo l'appartenenza al gruppo era necessaria per la sopravvivenza quindi non è una cosa in più è proprio necessaria la sopravvivenza questo è fondamentale per tutte le specie sociali ipersociali e la vergogna si può essere evoluta come un segnale emotivo di minaccia sociale e quindi l'esclusione sociale o l'essere diciamo respinti diciamo può minacciare appunto la nostra sopravvivenza questa cosa qua vi devo dire io poi non sono uno particolarmente intuitivo però io diversi anni fa vedevo che certi pazienti soprattutto la diagnosi di borderline sembravano vivere il disvalore che loro potevano avere rispetto diciamo al giudizio sociale non come qualche cosa diciamo che ci può diciamo dare dolore no molto di più avevano una paura terribile di potersi diciamo di una condizione del genere e io ho cominciato a pensare ma forse perché effettivamente il gruppo protegge così come anche mamma protegge quindi stare fuori dal gruppo è come il lupo solitario cioè o riesci a trovare un altro a formare un altro gruppo muori inevitabilmente muori diciamo a farmi ulteriormente persuaso di questa teoria è stata la lettura di questo bell'articolo che consiglio a tutti quanti se volete ve lo mando ho il pdf pubblicato l'anno scorso un anno e mezzo fa se non sbaglio da Michele Tomasello su philosophical transaction fondamentalmente cosa dice in realtà diciamo ne faccio una sintesi inappropriata ma fondamentalmente dice Tomasello a differenza di tutte le altre specie di esseri viventi anche le più evolute anche quelle iper sociali noi siamo ultra sociali ma quelle iper sociali quindi diciamo primati non umani i delfini eccetera e così via noi abbiamo una netta differenza la netta differenza è questa che per quanto possa esistere l'alloparenting la sicurezza e la sopravvivenza della prole è data al 100% dalla mamma ok con rari eccezioni ma fondamentalmente al 100% della mamma mentre invece noi no e per cui perché noi no e Tomasello descrive il motivo perché noi perché noi abbiamo la fase di dipendenza dagli adulti molto più lunga di tutte le altre specie anche diciamo comparandola con la sopravvivenza media della nostra specie ok perché questo ha un netto chiaro intuitivo vantaggio evoluzionistico perché una lunghissima dipendenza vuol dire la capacità di poter sviluppare delle competenze sia diciamo sociali interpersonali cognitive metacognitive pro sociali ma anche diciamo di accumulare una serie di informazioni essenziali diciamo non solo per la nostra sopravvivenza ma per il nostro adattamento ad un ambiente molto complesso ok e loro dicono cioè loro nel senso Tomasello e tutti gli autori che lui ampiamente cita lui sostengono una mamma non ce la fa a prendersi cura della prole per così tanto tempo con così tanta attenzione e quindi interviene quello che viene chiamato il cooperative breeding cioè diciamo l'allevamento della prole cooperativo affidato ad altri anche i papà i nonni le zie ma anche agli altri adulti bene per fare questo però circolarmente i bambini devono sviluppare delle competenze diciamo delle capacità cognitive metacognitive io me l'ho fissato 35 però eh poi ho iniziato però ok vai no 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 però perché allora e perché perché devono sviluppare queste cose qua perché appunto non solo devono devono entrare precocemente relazioni con gli altri adulti capire avere una loro teoria della mente eccetera poter condividere con loro l'attenzione fare tutta quella roba che con mamma di solito non serve perché ogni scarrafone è bella mamma sua invece gli altri no cioè se è scarrafone rimani scarrafone e tra l'altro sottolinea un'altra cosa che noi competiamo con gli altri bambini con i fratelli e con gli altri bambini per ricevere questa attenzione di così importante anche per la nostra sopravvivenza ecco là che il la questione del valore personale acquista un senso molto maggiore e la perdita del valore sembrerebbe a quel punto essere ancora più importante diciamo diciamo legata alla minaccia alla sopravvivenza vado molto veloce visto che Angelo mi chiama cinque ma ce ne ho dieci Angelo polemicamente allora voglio dire elenco due aspetti elenco soltanto due aspetti per poterne parlare insieme a tutti quanti noi ed è questo se si va a fare un'analisi dettagliata della letteratura clinica su come la vergogna ma io direi l'indegnità dolorosa possa incidere negativamente sull'efficacia delle cure in generale troviamo questi punti cioè è noto che diciamo aumenta i problemi di disregolazione della Rousal le credenze patogene sappiamo benissimo ostacolano la terapia perché sentirsi indegni sentirsi diciamo inaiutabili impotenti come si diceva prima ovviamente trattare un paziente che si sente impotente è chiaramente molto più difficile attiva quelle ciclicità interpensionali disfunzionali che diventano però un problema anche nell'azione terapeutica ad esempio crea un problema una cosa interessantissima questa davvero non la sapevo pensate diversi studi dimostrano che il 93% circa dei pazienti in psicoterapia non dice la verità al terapeuta cosa omette di solito sono omissioni altra volta sono proprio bugie ok lasciamo perdere questo ecco tra il 90 e il 93% la stragrande maggioranza cioè ci sono una serie di cose anche molto gravi come per esempio gli intenti suicidari le ricadute per esempio nel caso delle dipendenze anche diciamo del confortamento alimentare diciamo i pazienti tendono a tacere diciamo l'erotizzazione nella relazione terapeutica ma la parte del leone la fa i sentimenti di inadeguatezza e di svalore una gran parte cioè la gran parte dei pazienti mente cioè più che mente omette perché si vergogna del giudizio del terapeuta e siccome noi siamo per lo più non dico tutti ma insomma siamo per lo più dei psicoterapeuti attenti e certo non giudicanti e beh insomma questo ci lascia immaginare come la diciamo appunto la vergogna rispetto anche ai propri stessi problemi possa impedire l'autenticità del dialogo clinico del dialogo terapeutico dai che ho finito no no sto scherzando sto scherzando grazie ci sono degli spunti che lascio anche questa alla discussione sono questi se noi effettivamente ci sono delle cose che noi dovremmo fare per contrastare gli effetti controproducenti della vergogna anche nell'efficacia terapeutica intanto riconosce la vergogna di tratto e soprattutto riconoscere ancora più importante questa indegnità diciamo dolorosa e muta che ripeto spesso quasi sempre è taciuta riconoscere anche i segni diciamo i segni indiretti per esempio gli autosabotaggi io sono indegno per cui comunque sia non posso fare questo non posso fare quest'altro non posso partecipare a quel concorso non posso aspirare diciamo ad avere quella relazione affettiva eccetera e così via un'altra cosa diciamo che è molto interessante che si trova in tanta parte della letteratura clinica è quale deve essere l'atteggiamento del terapeuta nei confronti appunto di pazienti in cui si sospetta una componente molto forte di vergogna di indegnità è quello di diciamo anche proprio di essere dei terapeuti che sanno vergognarsi eppure poter parlare quando lo è possibile di svelarsi proprio nelle proprie inadeguatezze eccetera e così via una volta Francesco Cazzillo fece una volta un esempio qua una volta presentando un libro sulla control mastery theory di un caso proprio di questo tipo ma eventualmente magari ne parleremo durante la discussione non dobbiamo trascurare e lo dicono in molti esperti non dobbiamo trascurare anche l'idea diciamo no no non l'idea proprio non dobbiamo trascurare il fatto che dobbiamo aiutare i pazienti anche a dotarsi di quelle risorse che vergogna inadeguatezza eccetera gli hanno impedito di costruirsi autonomamente nella vita e che circolarmente possono aumentare il nostro senso di diciamo di essere più degni e infine se si va a fare proprio un'analisi diciamo molto semplice della delle terapie più efficaci appunto le terapie che maggiormente lavorano su certe rappresentazioni mentali come appunto acceptance and committed therapy la schema therapy o la control mastery theory sembrano essere degli strumenti piuttosto efficaci basta io a questo punto le conclusioni più o meno sono queste chiudo con la frase di una studiosa si chiama la Bush che diceva se la vergogna deriva da traumi massicci in cui una persona è stata disumanizzata e brutalizzata è difficile però che la vergogna possa essere cancellata del tutto io non so se Primo Levi si è suicidato l'anno dopo che ha scritto questo libro è vero che era amato di cancro ma secondo me era disperato ma questa è una mia convinzione ricordo anche io i nostri amici allora grazie grazie mille bene tra l'altro sei stato puntualissimo hai messo le mani avanti sei stato puntualissimo grazie della relazione interessantissima una sfilza di domande anche per te che riporteremo poi alimenteranno il dibattito dopo adesso introduco il professor Semerari il professor Semerari che è direttore fondatore direttore del terzo centro di psicoterapia cognitiva nonché uno dei massimi esperti di trattamento dei disturbi di personalità di relazione terapeutica insomma ricordiamo anche la recentissima pubblicazione del libro la relazione terapeutica di Antonio e oggi parlerà proprio di questo il tema è la vergogna il tema del convegno professor Semerari parlerà del rapporto della relazione stretta che esiste tra vergogna e disturbi di personalità grazie anzitutto agli organizzatori per avermi invitato a partecipare una giornata molto sentita evidente per il legame affettivo che tutti noi abbiamo con questi cari amici e colleghi in cui abbiamo condiviso una vita di discussione confronte e così via e un tema come quello che stiamo trattando cioè su un'emozione specifica pone al centro una domanda quando un'emozione che è qualcosa di normale e altamente adattivo diventa patologico a che condizioni e quali sono le diverse forme che può prendere questa psicopatologia c'è un passo molto carino nella Divina Commedia nell'antipurgatorio cioè le ombre si stupiscono perché Dante non è attraversato dalla luce e Dante si ferma ad osservare queste ombre che osservano lui e Virgilio gli fa una strapazzata terribile ma che fai perdi tempo non dare retta a quello che volgo pensa e così via e Dante risponde una teoria della vergogna perfettamente castelfranchiana dice che poter ridire io se non io degno dissilo alquanto del color cosperso che farò di perdone talvolta degno è esattamente quello non so se ti sei ispirato a Dante ma è assolutamente la teoria di castelfranchi cioè la ruola d'attivo della vergogna è quello di rendere l'uomo di perdone talvolta degno dimostrando che condivide i valori del gruppo e quindi è una però diventa notava benedetto un'emozione di confine vuol dire che sei al confine del gruppo dell'appartenenza cioè poi essere accolto perché manifesti corrossore la condivisione ai valori del gruppo e riconosci che in qualche modo li hai violati oppure poi essere espulso dal gruppo e questo è un aspetto ma questo comunque non ci dice ancora nulla su perché e quando diventa patologica a tutela dei confine del gruppo ci spinge a curare l'appartenenza al gruppo e bene ha dato una risposta sicuramente convincente per un pezzo è una parte la risposta lui stesso insieme a Gianni ha anche dato l'altra parte diventa patologica sostanzialmente quando è di tratto diventa patologica quando acquista la forma di un'atmosfera psichica di quello che Damasio chiama un'emozione diffusa cioè un'indegnità silente una condizione di base un qualcosa per cui effettivamente molti pazienti borderline ruotano su questo tema che è cangiante una volta sono indegni perché sono fisicamente mostruosi hanno sintomi risporfofobici una volta sono indegni perché sono inetti stupidi una volta sono indetti per motivi morali si ha l'idea di un'atmosfera psichica stabile che prende forme cangianti nel tempo e questa è sicuramente una risposta la Temi non so bene come si pronunci affronta questo tema confrontando spesso la vergogna è la colpa e porta fondamentalmente tre argomenti per cui la vergogna sarebbe meno adattiva della colpa più psicotologica della colpa il primo argomento è molto semplice sia la colpa che la vergogna insieme con l'imbarazzo e l'orgoglio sono emozioni self-consciousness cioè che richiedono una qualche rappresentazione di sé la vergogna investirebbe il sé più totalmente mentre la colpa riguarda ebbe più l'azione specifica è già stata criticata dai colleghi io la trovo assolutamente poco convincente esiste tra l'altro una colpa di tratto esiste una colpa tipo self-hate una colpa autopunitiva che sicuramente ha aspetti patologici altrettanto gravi mentre esiste una vergogna come quella di Dante che non ha assolutamente nulla di psicopatologico il secondo argomento è quello della tendenza all'azione la colpa ha una tendenza all'azione prosociale riparativa e la vergogna invece all'evitamento sociale e a parte che la colpa ha anche una tendenza autopunitiva espiatoria oltre che riparativa ma che può diventare patologica ma perché insomma non è che tutto ciò che è sociale è buono è tutto ciò che è solitario è cattivo c'è un che ideologico cioè comunque questa è la differenza tra Raskolnikov e Caino è molto importante Raskolnikov sente il bisogno di confessare confessa nessuno lo scoprirà ma nessuno lo condamnerà se non confesse lui confessa è l'apertura Caino si nasconde Caino si annida il terzo argomento però assume un certo interesse rispetto a questo di dire la tecnicita una serie di ricerche in cui nota che la colpa che la vergogna contrariamente alla colpa si associa all'ostilità e effettivamente è ovvio la tendenza la colpa è riparatoria c'è la colpa altruistica colpa e ostilità non hanno poco a che fare la vergogna è invece beh no secondo me è vero questo è un punto che per quanto riguarda la patologia della personalità è estremamente importante tra l'altro è un punto assolutamente diciamo ignorato da una tendenza un po' ottimistica sulla natura umana che è presente soprattutto del cognitivismo clinico per cui i cattivi sentimenti sembrano non aleggiare all'interno della ora che cosa vuol dire questo che cosa cerco di dire che un aspetto della psicopatologia delle emozioni può riguarda certamente l'essere diciamo l'intensità la stabilità oltre all'intensità cioè l'assumere un aspetto più di tratto o più distanto ma l'altro aspetto sta nella costellazione emozionale cognitiva in cui si collocano perché non vanno solo da solo non è che uno che si vergogna non fa altro anche se ha la vergogna di tratto il senso di dignità fa tutto il tempo non fa che vergognarsi sta H24 a vergognarsi no no non è così alla vergogna si reagisce allo stato emotivo si reagisce e queste reazioni creano tutta una serie di costellazioni psicopatologiche ed è queste costellazioni psicopatologiche che ci fanno intendere la patologia della personalità non c'è errore più grande secondo me concettuale che aver definito un disturbo di personalità un enduring pattern che da enduring pattern non pattern stabile questa idea di uno che fa sempre la stessa cosa no è una una personalità non è una foto è un film è una persona che con i suoi limiti ha una serie di problemi tenta di risolverli nel tentativo di risolverli crea dinamiche interpersonali e così via che creano alti problemi altrimenti non capiamo quasi nulla dei nostri pazienti ora io in questo senso queste sono questioni linguistiche ma tenderei proporrei di distinguere tra anche spesso si usa la terminologia umiliazione vergogna tenderei a distinguere le due cose perché quella di Dante non c'è niente di umiliante ciuccio non hai studiato mi dice il mio professore mi vergognavo è vero come Dante non ho studiato è vero cioè ma mi sentivo umiliato l'umiliazione è quella roba lì è quella roba lì della cultura del disprezzo è quel fatto che la prima cosa si arrivi in un campo di concentramento ti tolgo il nome e ti metto un numero cioè è il messaggio l'esperienza che tu non sei niente che un altro essere umano ti tratta come una come una cosa come qualcosa disumanizzata questa è l'umiliazione è ovvio che un'esperienza che è connotata di minaccia di paura inevitabile e quindi di paranoia la paranoia è una componente inevitabile della patologia della grave e della vergogna cioè l'attesa che l'essere umano sia lupo per gli altri esseri umani l'aspettativa che gli altri possano farmi da male questo è da stabile questo nel disturbo evitante di personalità molto difficile coglierlo perché sembra timore del giudizio ma descrivono a volte certi stati mentali tipo sono al centro dell'aula il professore parla e io mi sento gli occhi di tutti addosso capiscono cognitivamente che è improbabile no il professore parla guarda il professore non è quello ma e perché lo teme timore di giudizio si dicono perché mi valutano mi guardano ma l'atmosfera evocata è un'atmosfera che precede un linciaggio e che sono in un gruppo estraneo sono capitato come se voi capitasse tutti investiti in un locale maffamato e tutti vi guardano sì vi pesano vi soppesano ma quell'atmosfera vi giudicano ma ma è giudizio faccio una brutta figura è a seconda di come mi giudicano mi massacrano mi vinciano e non a caso nella tradizione clinica la psichiatria classica è descritto un delirio di persecuzione dei sensitivi a questa sensazione no Kretschmer lo sviluppo delirante della personalità l'altro aspetto però chiave dell'umiliazione è non c'è solo la 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 paura è ovvio che c'è la paura ma c'è anche il reverse beh io odio c'è l'odio dico l'odio non la rabbia questo è un altro problema grave che abbiamo non riesco a trovare un allievo che non mi riporti che non riporti solo la rabbia tra la rabbia e l'odio c'è una grande differenza c'è la rabbia ce la può avere anche un animale l'odio no l'odio richiede una rappresentazione stabile di sé del tempo cioè richiede un'autocoscienza umana una rappresentazione stabile dell'altro e una rappresentazione delle relazioni l'esperienza dell'umiliazione si lega l'esperienza della minaccia in generale può essere minaccia di umiliazione o minaccia fisica si lega all'odio che è ben diverso dalla rabbia si può essere arrabbiati con la persona più amata l'odio può essere freddo può essere calcolato può essere razionalizzato non c'è nulla tra odio e rabbia se Cristiano lo esplorasse ci farebbe un grande piacere con quella cosa ma sicuramente qualcosa di ben diverso clinicamente si vede ora l'odio da punto di vista cercando di imitare con i miei modesti mensi Cristiano Calza e Franchi sostanzialmente ha due tipi di scopi con scopo desiderato di solito quando l'odio è legato a una minaccia fisica o a una minaccia ai beni è di eliminare l'altro la persona obviata di eliminarlo vorrei che sparisca ma lo odia beh sì beh proprio odio però vorrei l'ammazzerebbe no proprio ucciderlo però vorrei che sparisse quello è eliminato diciamo questo è l'odio sano normale possiamo provarlo tutti l'odio legato all'umiliazione spesso è odio sadico cioè è il escio dell'umiliazione cioè è avere il potere di fare soffrire l'altro lo scopo rappresentato è un sé potente in grado di far soffrire l'altro reso impotente esattamente il reverso naturalmente questo può essere ego distonico comprensibile può essere ego distonico ma può essere anche ego sintonico di solito quando questa è per esempio una delle caratteristiche sadismo ecosintonico una caratteristica del narcisismo maligno proprio dove la fantasia sai ma attenzione perché qui ci sono un sacco di errori terapeutici se voi vedete persone umiliate tutte miti e così via indagate le fantasie di Rivals perché quelle sono miti in molti casi non in tutti perché si sentono più deboli ma molte volte è proprio la terapia specie se si usano tecniche di tipo suggestivo che hanno un effetto rapido e pronto che gli danno quel senso di sicurezza per cui fanno il reverse per cui diventano immediatamente maltrattanti con chi? con i genitori con le persone più deboli che riescono a fare migliora la sintomatologia acuta cioè depressione ansia eccetera quindi infatti SCL 90 misurate la soddisfazione del paziente e contento grazie dottore eccetera eccetera ma avete un miglioramento sintomatico e un peggioramento ecosintonico della personalità quindi hai trovato un disastro e un ultimo punto vorrei qui se metti aiutarmi su slide cosa è bisogno ah slide sì solo una slide ecco no sì mi serve se c'è un indicatore su questo punto abbiamo avuto una piccola discussione con Cristiano no non si vede c'è un puntatore c'è un puntatore si vedeva prima ecco 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 questo non ve la faccio lunga è un questo non ve la faccio lungo è un modellino soprattutto del narcisismo grandioso adesso vi prego di credere tutti le stazioni di questi transiti fanno parte della letteratura o sono dati di ricerca o sono dati clinici consolidati l'idea fondamentale è molto semplice la grandiosità rappresenta la soluzione a una condizione di vuoto o di vergogna non so a dire quanto è importante la letteratura del narcisismo l'esperienza del vuoto l'esperienza di non avere scopi il resto narciso è incapace di amare quindi non ha spinta non ha è è è è è è è è è non gli oggetti la grandiosità fa sentire vivi fa sentire che esisti che ci sei la grandiosità è anche l'opposto della vergogna qual è l'emozione della grandiosità? l'orgoglio l'orgoglio si fa sentire che ci sei che esisti che non sei vuoto attenzione il narcisismo la mancanza di scopi spesso assume la dimensione di mancanza di senso nel mondo mancanza di scopo in generale di che diventa anche che cacchio ci sto a fare al mondo l'angoscia del resistere che scopre che vivo che potrei non vivere eccetera la grandiosità fa sentire no ci sei Marco la presenza ovviamente la grandiosità dell'orgoglio è la vergogna è la soluzione a vergogna è una reazione esattamente l'opposto il rovesciamento questo rovesciamento è sempre patologico perché è coatto l'orgoglio è coatto cioè sei obbligato a sentire l'orgoglio non è più la soddisfazione ho fatto bene ho fatto bene una cosa sono contento e quindi diventa prosociale ti spinge ad agire bene sei costretto perché sennò ti senti un grumo di niente oppure vuoto un granello di polvere insignificante nell'infinito dell'universo quindi quell'orgoglio ecco atto che cosa succede naturalmente quando funziona la grandiosità noi narcisisti non li vediamo mai non sappiamo noi clinici com'è un narcisista grandioso stabile li vediamo quando la grandiosità è in crisi c'è un primo livello di solito in cui i pazienti funzionano ancora hanno pochi sintomi psichiatrici e tendono a rigirare sul disprezzo cioè il tema è chi disprezza chi si lamentano di persone inutili di colleghi incapaci di ingiustizia eccetera eccetera se la grandiosità è ancora più in crisi per i conflitti si arriva ad una svolta di solito alcuni pazienti narcisisti sviluppano non si deprimano non accedono alla depressione è fallito lo scopo quindi fanno come la mosca contro i vetri non abbandonano ma si spiegano il fallimento con l'ostilità degli altri sviluppano paranoia e sviluppano ostilità sviluppano odio rabbia questo un gruppo naturalmente a quel punto quando si è vicini all'ostilità la paranoia la minaccia di vergogna e umiliazione è sempre più vicina quindi ci possono essere momenti di alta minaccia paura con fenomeni anche rissociativi di frammentazione del pensiero sono acting out spesso vi arrivano con diagnosi disturbo borderline perché hanno il discontrollo della rabbia e possono uccidere qui possono uccidere molti femminicidi stanno qua e questa roba qui non tutti i narcisisti naturalmente entrano in questo aspetto che è quello psichiatricamente più grave una parte una parte comincia a sviluppare una sorta di fobia dell'umiliazione sono quelli che normalmente si chiamano sono più funzionanti riescono a mentalizzare la paura dalla vergogna e l'umiliazione sono quelli che diventano che chiamiamo narcisismo vulnerabile gli evitanti rientrano un po' in questa in questo in questo gruppo c'è ancora un altro gruppo che la rabbia dice che è il responsabile del mio fallimento non sono gli altri ostilità gli altri invidiosi quindi ostilità paranoia sono io la rabbia è rivolta verso se stessi e realmente non sono più narcisisti diventano una sottocategoria che ha avuto tanti nomi nella storia della psicopatologia da personalità masochina autofrustranti self-defeating depressive e oggi si tende a riassumere con l'idea del malignant self-right guard cioè un atteggiamento di colpa punitiva verso se stesso perché primo quali sono i fattori che determinano questo probabilmente uno sono i livelli di funzionamento un altro è la capacità di provare colpa della capacità di provare colpa se provano colpa è difficile non capace di provare colpa è difficile che entrino nella spirale della paranoia abbiamo fatto una ricerca di questo genere abbiamo confrontato narcisisti grandiosi maligno self-right hard narcisisti vulnerabili per diversi tipi di colpa tra di loro e il risultato è interessante e sembra un continuum i grandiosi non provano cosa hanno poca colpa di tutti i tipi i vulnerabili hanno colpa deontologica diciamo ma non colpa altruistica non colpa empatica è a bassa empatia e maligno il self-right ce l'ha tutte in particolare il self-right quindi sembra un continuum la colpa sembra definire un continuum nel funzionamento narcisistico ultimo punto ma che c'entra il vuoto con la vergogna e l'umiliazione e perché la vergogna e l'umiliazione hanno a questo aspetto il vuoto hanno questa caratteristica in comune che ti fanno sentire niente come si dice a Napoli il resto di niente come dice quel bellissimo libro una pezza di niente ti fanno sentire niente ti danno questa inquietante sensazione perché sono d'accordo la vergogna di tratto non guarisce perché naturalmente guarisce nel senso che la puoi elaborare ma cosa una ragazza che ha una storia pesante di abuso mi diceva e punto lo so che non sono responsabile perché non era nella mia facoltà resistere ad abuso ma qualcuno ha pensato di potermi trattare come un pezzo di carne e questo ti fa sentire niente non te la dimentichi con l'esperienza non c'è niente da fare quello non è trattabile grazie allora grazie Antonio anche per la rapidità la sintesi è finito addirittura un quarto l'ora prima noi adesso possiamo inaugurare il dibattito adesso Francesco io credo magari diamo precedenza alle persone qui presenti io ho raccolto molte delle domande arrivate qui su zoom sono tantissime tantissimi complimenti e e tante domande per tutti io non so se riusciremo a dibattere su tutte però cercherò di selezionare adesso chiedo qui tra i presenti se c'è qualche domanda altrimenti passiamo alle domande già formulate da chi ci ha seguito da casa passiamo alle domande sì certo certo sì sì io se non lo passavo io facevamo prima no? mi alzavo io perché se non come preferisci passare questo a loro pensavo che sì perfetto sì 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 ok allora dunque cominciamo dalle prime relazioni quindi seguiamo un po' la sequenza la prima sì in realtà alcune domande sono per il professor Castelfranchi e il professor Mancini alcuni l'hanno scritto esplicitamente quindi per esempio questa invece è per il professor Castelfranchi in particolare la domanda è questa la riassumo perché condividere valori con gli altri nella vergogna cioè perché ci dovrebbero essere valori condivisi e non semplicemente visto che è sufficiente desiderare una valutazione positiva senza condividere il valore per provare vergogna è comprensibile o perché questa già era molto complicata io l'ho l'ho riletta anche male e ho provato a sintetizzarla ma temo che se capisco le tesi questa siamo di stimolare sia individualmente che realmente e culturalmente il semplice problema della della adesso pronto era acceso forse adesso funziona avevo spento forse e dobbiamo distinguere la semplice preoccupazione per il giudizio altrui e per quello che dicono di me quello che pensano di me quello che ho previsto chiamare reputazione preoccupazione della reputazione cultura della reputazione con il vergognarsi andare in vergogna ok per andare in vergogna di un giudizio negativo che sto avendo che ricevo bisogna che anche ai miei occhi sia una brutta cosa altrimenti posso andare per esempio in scontro con l'evocazione ma che ti dice oppure posso stare male semplicemente perché qui pensano male di me non so se è chiaro ma non è necessario non è necessario che mi vergogno quindi io posso condividere non so un valore senza però ritenerlo giusto il paradosso infatti è che persino la vergogna irragrossire dell'innocente di cui non ha fatto niente è dovuta al fatto che oddio ma sarebbe effettivamente una cosa orribile anche per me quindi anche se non ho fatto niente quello che conta è che effettivamente quello che sta pensando di me è una brutta cosa che io condivido questo è il senso della disfunzione che voglio fare però vorrei sottolineare che per me vergogna è un'emozione non è semplicemente anche se è molto interessante in analisi è stata dette la mancanza di valore il vissuto della mancanza di valore questo è un vissuto fondamentale che ci crea problemi grossi nella vita nella fotografia ma non è ancora la vergogna è un presupposto della vergogna il problema è che questo senso di mancanza di valore deve andare in circostanze per cui rischio la figura rischio l'immagine non sono adeguate eccetera ma se io manco di valore vuol dire che anche il mio giudizio è negativo se no in che senso manco di valore dentro di me quindi penso che questo aspetto sia un aspetto importante della non abbiamo distinta abbastanza tanti stati come qualcuno ha cercato di fare tanti stati affini pezzi comuni che però non sono necessariamente tutta quella emozione o l'emozione sono componenti che possono andare in una direzione o nell'altra questo è il tenso della cosa grazie Cristiano un'altra domanda questa è per il professor Castelfranchi il professor Mancini in qualche modo forse anche per Benny visto che tocca i temi della psicoterapia cognitivo-evoluzionista comunque la domanda è questa si può dire che vergogna la vergogna ha a che fare con il rango e la colpa invece di più con l'accudimento e con la cooperazione allora è rivolta a entrambi molto rapidamente non abbiamo potuto fare la teoria dell'immagine sociale perché è così fondamentale l'immagine sociale l'immagine sociale ha varie funzioni fondamentali una prima funzione della della immagine che figura faccio quanto mi estimo mi apprezzano è la costruzione dell'autostipo la nostra autostima non è la fotocopia il trasferimento di quegli altri pensionimenti no ma non può essere neanche indipendente quindi una delle funzioni di avere una decente valutazione da parte degli altri è la possibilità di costruire e dipendere la valutazione questa è una delle funzioni un'altra fondamentale funzione è la gerarchia umana non la gerarchia pubblica ufficiale istituzionale la gerarchia vera interpersonale perché lui è il più simpatico della classe perché lei è la più intelligente della classe più di me che so questo è diciamo così l'elemento appunto di status e di rango il rango interpersonale dovrebbe quanto vale vale di più vale di meno queste valutazioni sono comparative e l'altra funzione fondamentale dell'immagine è quella che abbiamo detto tutti valere qualcosa per gli altri e quindi entrare nelle azioni sociali fondamentali in cui qualcuno può dare qualcosa a me dato che io posso dare qualcosa a lui o io non ho niente da dare e da dire quindi nessuno si rivolge a me ma non esiste sono niente e quindi sono fuori dal rapporto sociale e quindi sono molto un evoluzionista quindi una delle consigli immagini sociale è entrare in relazioni per cui qualcuno fa qualcosa per me o mi dà qualcuno dei suoi poveri come si vede c'è varie funzioni l'immagine sociale una è questa ma non è da sola non è il rango ma avevo tentato di rispondere si vede che sono stato inefficace nel senso che quelli studi sull'importanza del valore nei bambini sopra i due anni perché diciamo la misura del valore ci può dire quanto noi potremo poi dopo accedere alle cure alla protezione di altri adulti e ci mette su un piano per cui comunque sia credo che sia forse improprio di distinguere rango accudimento eccetera e così via per con l'occhio di uno psicotraumatologo che potrebbe essere appunto diciamo un occhio miope o quanto ipermetro in realtà ma insomma però credo che sia importante il fatto di poter riconoscere o nell'umiliazione che appunto diciamo nei segni dell'umiliazione o nei segni di quella indegnità che possono non essere l'umiliazione può essere la rabbia eccetera e così via comunque sia una minaccia e questo poi è quello che scrivi tu insomma cioè una minaccia comunque sia ha lo scopo di essere visto accolto visto e quindi anche protetto ok 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 Francesco vuole aggiungere qualcosa tu ok allora io approfittavo di questo vorrei approfittare questa domanda per mettere alcuni forse anche un pochino più di chiarezza tutto il discorso che per meno che ho fatto io allora esiste una serie di studi in psicologia sociale che mostrano una cosa assolutamente ovvia e cioè che noi esseri umani tendiamo a collocarci e a collocare noi stessi e tutti quanti gli altri gli animali il padre eterno e tutta la compagnia lungo un asse verticale si chiama social chain cognitive chain of being la famosa catena dell'essere allora la cosa interessante è questa noi di solito la supponiamo a meno che forse non siamo narcisisti in una fase particolare ci collochiamo grosso modo alla metà di questa catena allora la domanda è come scendiamo o se preferisci come scendiamo ma diciamo come scendiamo e cosa succede se scendiamo allora perché scendiamo beh possiamo scendere fondamentalmente per alcune ragioni allora una è quella che appunto gli anglosassoni chiamano scemi poi vai a capire per noi esattamente cosa voglia dire un'altra è il senso di colpa quale senso di colpa da una ricerca che abbiamo fatto noi sembrerebbe più fondamentalmente il senso di colpa teontologico e quello altruistico la terza cosa per cui scendiamo è lo sotto c'è lo sporco il disgusto non a caso Primo Levi che accennava di cui parlava prima Benny nel libro Se questo è un uomo fa riferimento a quelli che erano i prigionieri cosiddetti li chiamavano i musulmani cioè persone che sull'onda della disperazione si lasciavano andare alla contaminazione degli escrementi cioè diventavano lerci cosa gli succedeva gli succedeva che venivano lei dice questi campavano 15-20 giorni perché venivano maltrattati sia dai compagni che dalle guardie allora questo è interessante perché abbiamo almeno tre diciamo stati cognitivo emotivi che ci fanno scendere e cosa succede se scendiamo c'è l'aspettativa vera legittima di essere esposti a aggressività disprezzo ostracismo allora e poi morte se preferisci ora allora io penso che molte di quelle cose che sono state dette vanno inquadrate in questo senso aggiungendo un pezzo rifacendo quello che diceva Antonio se tu sei in basso sei sceso per senso di colpo o quello che sia allora a questo punto tu hai diverse opzioni o una opzione è quella di cercare di risalire e per esempio nel caso della colpa riparare nel caso della vergogna probabilmente è più difficile risalire nel caso dello sporco lavarsi vedi gli ossessi e un'altra opzione può essere quella di appunto dell'odio o della rabbia che sia a seconda di come la vuoi vedere la terza è quella della rassegnazione e diciamo depressione e probabilmente lasciarsi morire vedi i prigionieri nei raga ecco quindi io penso che il senso quello che voglio dire è questo che va un po' distinto cioè un conto è il senso di indegnità di umiliazione un conto è come ci arrivi e un altro conto è come reagisci e come ti aspetti che ti reagiscano gli altri allora questo è da un po' un ordine un po' più complessivo tornando alla domanda se la coerogna ha a che fare con il rango è la colpa con con l'accudimento e l'accudimento l'accudimento mi sembra molto illuminante da questo punto di vista se l'ho colto cioè nel senso che voglio dire se tu scendi in basso è difficile che ti senti in grado di essere accudito mi pare che ti aspetti esattamente l'opposto quindi dire che essere abbandonato abbandonato ma ancora peggio essere aggredito quindi non credo che si possa fare questa distinzione fra che la colpa abbia a che fare con l'accudimento se sono un po' non sono accudito posso non essere accudito ma posso essere anche umiliato aggredito ostracizzato eccetera l'unica cosa che posso aggiungere è questa che la nostra ricerca ma sembra che ci sia una differenza per colpa altruistica e colpa teontologica la discesa sembra più legata alla colpa teontologica che a quella altruistica questo mi sembra che forse si possa dire la risposta sia no un po' di tutti e tre cioè non è così netto cioè non è la vergogna solo rango no no io ho il mio ho il mio non è la vergogna solo rango è la colpa solo accudimento e cooperazione allora seguendo però il filo tematico più che quello cronologico io mi aggancio a quest'altro cioè questo tema sollevato da Francesco sul e la domanda era per il professor Semerari e per Mancini si può considerare il senso di indennità tipico dei pazienti borderline come l'intreccio perfetto una sorta di tempesta psicopatologica perfetta in cui si intrecciano si mescolano un profondo senso di vergogna e un profondo senso di colpa deontologica io sappiate che ho dovuto mesclarare o quelle o queste perché mi arrivano in chat e quindi alcuni sì secondo me è importante però tenere presente che quando si parla di patologia grave non tutte le emozioni sono accessibili in realtà esiste una gerarchia per l'emozione cioè se scendi per colpa è diverso che se scendi per vergogna perché hai più risorse psichiche così si scendi per pressione e i pazienti che quindi ci sono molti pazienti con disturbi sono pazienti con disturbi di personalità eccetera in cui identità si connota sia di colpa che di vergogna senso di interiorità tante sfaccettature altre in cui la colpa è povera è impoverita nel caso dei pazienti border soprattutto la colpa biologica ma in altri pazienti manca la colpa magari ci fosse questo è uno dei problemi che in molti casi alcune situazioni emotive che noi consideriamo oggetto di intervento e invece magari ci fossero un giovane che arriva a trent'anni ha fallito quattro università non fa nulla sta ricasco dalla famiglia e non prova né preoccupazione né depressione è grave è più grave che non se ci fosse c'è un problema è preoccupazione per il futuro è depressione più grave e se no perché serve non è possibile la corrisposta è nì Antonio mi sembra di capire cioè non sì dipende dalla gravità dipende dalla gravità la colpa di solito nella patologia di personalità contribuisce al gradiente di gravità meno c'è colpa più gravi sono più c'è colpa naturalmente hanno problemi ma più si considerano disturbi di personalità di alto livello ok posso mancini cosa ne pensa allora ho messo che sicuramente Antonio è molto ma molto più esperto di me di bollera che posso fare riferimento a rispondere a rispondere tanti casi di inizio poi ne continuano ad arrivare altre sicuramente molto più esperto di me di bollera io posso rispondere facendo riferimento a migliati allora quello che io credo di aver osservato è questo per pazienti con gravi sensi di colpa mi voglio vedere come sarà il stisco che per esempio pazienti ossensivi con gravi sensi di colpa possono reagire a un certo punto esagerando da un'altra parte possa giocare un ruolo chiarissimo chiarissimo allora un'altra domanda cercando di orientarci una domanda questa era per Ben in particolare se la vergogna riferita dai sopravvissuti ai campi di concentramento potesse in realtà essere riferita più alla colpa altruistica che alla vergogna e basta visto che visto che l'attenzione nei racconti in quello che viene raccontato è tutto sulla sofferenza degli altri più che sullo sviluppo personale e ho interpretato correttamente la domanda tanto io non ho mai dedicato direttamente insomma la ricerca che mi ha vissuto a un tanto di sterile medico dicevo che premesso io non li ho visitati questi pazienti però per ragioni differenti comunque sono letture che mi hanno sempre appassionato nel caso dei sommersi salvati per esempio ci sono c'è sia appunto lui lo dice primo Levi primo Levi lo dice direttamente cioè sia la vergogna il senso di indegnità di annichilimento eccetera così via a cui tendevano diciamo i nazisti ma c'è anche diciamo la colpa altruistica per esempio lui racconta fa un breve racconto che anche quello diciamo in certi versi è drammatico lui racconta che a un certo punto d'estate già i russi bombardavano per cui avevano già bombardato il campo non c'era acqua nel campo molti erano morti e alcuni prigionieri superstiti dovevano sgombrare un un magazzino che appunto era pieno di calcinacci e allora c'è il primo Levi che fa una descrizione della sete letterariamente meravigliosa perché dice la fame tutti poi distrarne magari con la rapida con una cosa ma la sete non ti lascia proprio non ti lascia spazio non riesce proprio ti colpisce in testa loro stavano là morivano di sete a un certo punto lui sgombrando questo magazzino si rende conto che c'è un lungo sgombrando questi calcinacci c'è un lungo tubo di arrugginito d'acqua arrugginito che essendo molto lungo poteva contenere diversa acqua per cui cosa fa prende riesce con un mattone a rompere il rubinetto e si trova appunto con qualcosa che poteva essere mezzo litro d'acqua che per là era la sopravvivenza a quel punto lui deve decidere che faccio lo condivido con il mio compagno che sta qua nella stanza del magazzino e basta oppure lo condivido anche con gli altri due che stanno sgombrando la stanza accanto e lui decide la prima opzione nell'altra stanza da là lui comincerà dopo una volta diciamo ritornato in Italia ad avere questa immagine a sentirsi indegno perché colpevole e racconterà che lui incontrò questo uno di quelli che lui aveva escluso da questa misera veduta e lo incontrò perché si era salvato pure lui e quindi lo incontrò nelle manifestazioni in cui bisognava appunto testimoniare come oggi la memoria della sciola e lui dice io non riuscivo a guardarlo negli occhi io non riuscivo a guardarlo negli occhi quindi c'era ovviamente c'erano diverse emozioni non c'era soltanto quello tra l'altro secondo me non c'è tempo di parlare di questo ma insomma quella è la differenza tra la colpa del sopravvissuto e quell'indennità così costitutiva ho detto era un punto di partenza non era un punto di partenza il mio ce ne sono tantissime ditemi se per quel tempo ce l'abbiamo chiedendo un punto ci vuole fare altre domande per esempio qualcuno chiedeva il rapporto secondo lui esistente tra vergogna e violenza sessuale è stato detto probabilmente è ancora più importante della colpa perché si tratta di una umiliazione nel senso che abbiamo detto cioè essere trattato come una cosa come un oggetto di cui desideri e volontà non contano nulla non è nulla l'umiliazione ma la traccia dell'umiliazione più della colpa ancora più della colpa è l'aspetto più probabilmente psicomatologico al professor Castelfranchi chiedono di tornare sulla distinzione tra vergogna e umiliazione in realtà poi molte cose sono state dette affrontate però evidentemente si tratterebbe di fare un po' una famiglia di rapporti emotivi di cui l'umiliazione è il caso più estremo come è stato detto è più drammatico perché vuole trattarti come non sei neanche umano sei sotto i nostri piedi a livello dell'humus sei niente stiamo di calpestiamo ma è la forma più estrema il problema è di fare tutta la teoria delle atteggiamenti ed emozioni volte a ferirti a sottolineare il tuo disvalore fino per esempio a ridere di te o al deridere che è un ridere alla fine di offenderti e e farti sentire quanto noi siamo superiori rispetto a te la funzione fondamentale del deridere non è tanto quella di rendere questo qui umiliarlo rendere inferiore isolarlo mortificarlo aggredirlo ma è che noi siamo noi nel deridere noi ci sentiamo superiori uguali e grazie al fatto che tu sei la vittima e che manchi di questo pregio noi ce l'abbiamo e noi siamo uguali e noi siamo superiori quindi c'è una doppia funzione questa doppia faccia quindi tutte queste questi atteggiamenti avrebbero visti nelle varie loro l'altra cosa che dicevo anche il ridere semplicemente non deridere il fatto che mi fai ridere in realtà è per te un elemento di ferita e tu mi capito da questo perché vuol dire che c'hai una caratteristica di evoluzione del primo tipo di mancanza di caratteristiche la teoria interessante in quella direzione che a me piacerebbe fare piace fare è come dicevo prima perché gli esseri umani hanno questa doppia faccia homo homini lupus come diceva lui e anche invece la faccia aiutante protettiva di prendersi cura com'è possibile che la stessa deficienza e problematicità e mancanza dei poteri di questo poveretto ne può opporre in questa posizione di superiorità di delisione distacco da te ah 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 noi non abbiamo niente a che fare con questa tua inferiorità io sono superiore oppure mi dice oh poveretto oppure ti aiuto ti aiuto ti aiuto questi due orientamenti ogni e qualsiasi caratteristica che suscita pena e compassione può suscitare riso e derisione ogni caratteristica umana gravemente deficitare anche fortemente sofferente è stata culturalmente nella nostra cultura tradizionale oggetto di derisione scherzi e prese in giro anche essere zoppi ciechi sordi oggetto di scherzi oggetto di derisione come diavolo è possibile siamo sadici e però empatetici e umani e la valvoletta che ci orienta in una direzione o nell'altra rispetto a questa grave mancanza di potere e quindi di valore è vado in empatia o non vado in empatia con la sua sofferenza e questa grave mancanza di valore e questa grave mancanza di potere è sofferenza mi focalizzo su questa sofferenza e vado in empatia con questa oppure anempaticamente guardo soltanto alla sua inferiorità e godo della mia superiorità questa è la valvoletta come ci ha spiegato Pirandello in quel grande psicologo in quell'esempietto in cui vede un'anziana una signora ridicolmente truccata e le pare guarda come si è conciata questa poi fa un pensierino e dice ma forse poverina ha paura di perdere l'uomo che ama e si commuove ha pensato al suo dolore è andato in empatia del dolore e ha svoltato da una parte o dall'altra quindi però è impressionante che lo stesso oggetto possa dare proprio e quindi lui si può sentire offeso e ferito non solo dal fatto che rende di lui ma anche dal fatto che lo compadisce e quanta gente nasconde la sua sofferenza la sua gravi difficoltà pur di non suscitare pena è chiaro è chiaro in tutti e due i casi c'è una possibile ferita dipende su cosa ti focalizzi una domanda non sto se magari io penso che ci serve no spezzo una lancia a favore del ridere lì bene perché c'è un doppio problema c'è l'ironia ha sempre un doppio segnale uno che è quella sarcastico esclusiva e un'altra è quella inclusiva per cui si prende in giro ma nico e anzi spesso nei rapporti umani è il segnale che siamo diventati amici il fatto che ti prendo in giro e cioè e questo è un punto importante perché l'abilità proprio di teoria della mente di metà cognitiva di distinguere tra queste due forme da sì che se ti prendono in giro volendo ti includere non reagisci arrabbiando perché non ti crea una direttiva molto d'accordo e aggiungerei questa tua giustissima osservazione che infatti ridere di una cosa è anche uno sdrammatizzare certo è una sdrammatizzazione ma ridere non è una cosa drammatica eccetera quindi può essere vissuta così e quindi io spesso faccio un pezzo di quanto è importante in queste situazioni l'autoironia wow tu stesso sdrammatizzi sei superiore a te stesso se come noi e può essere autosarcastico aggressivo aggressivo anche a gente allora c'è una domanda per il pensiero di mancini il ruolo della vergogna c'è che ruolo può dire la vergogna nel distruggersi si è complessibile e nel trattamento di una persona di una complicazione dipende il secondario il secondario questa va da sé l'abbiamo già detto prima però adesso metterla così dipende da che parola utilizzi allora se utilizzi la parola vergogna secondo me ha poco ruolo se usi la parola scemo se ne vedete che cosa vuol dire quindi in letteratura come dicevo trovi spesso riferito ai pazienti ossessivi scemo poi però se tu vai a vedere a quali sono gli episodi a cui si riferiscono tu usi non sferesti la parola vergogna non sferesti poi è insomma per intenderci credo la domanda adesso è già povera di questa distruzione cioè credo che considerasse la vergogna come fattore di ospirazione come complicazione sì beh certo ovvio certo i pazienti ossessivi spesso si vergognano del proprio il stupro ossessivo faccio per dire no è abbastanza evidente questo senso può complicare ovviamente prima visita lo vedi con grandissima facilità no il paziente che comincia ad essere allusivo non ti racconta quello che diceva ma quali sono questi pensieri che la tua urbano non te lo dicono perché si vergogna basta non va e allora qui le domande e complimenti con quella naturala pratica quindi ditemi voi io vado avanti io volevo riprendere una cosa che prima diciamo che avendo seguito questa cosa è per me una novità e degli estremi interessi poi ti dico perché è la questione del passaggio della cioè del superamento di della interiorizzazione di certi valori sostituendoli con altri e tu dici che mi sembra molto interessante questo è un processo molto complesso perché ci sta prima la fase di emancipazione poi c'è la fase dell'orgoglio e poi c'è la necessità di una condivisione con un gruppo allora questo da una parte è molto interessante dall'altra parte è una pessima notizia perché voglio dire in terapia risolvere risolvere appunto per esempio è chiaro che in molti casi i sensi di colpa sempre pensando agli ossessivi mi perdonate ma c'è dei sensi di colpa delle volte che sono nati su dei criteri di giudizio su delle norme assolutamente come dire esagerate evidentemente quindi modificarlo se si richiede un processo così articolato in tre parole se fosse possibile dovrei fare una richiesta di un approfondimento da parte tua su come si può arrivare allo stesso processo in maniera più semplificata perché se no c'è veramente da essere pessimisti come? la richiesta esplicita è arrivata agliacciata in approfondimento su questo processo e che siamo vorrei sapere come ho scoperto i due parole che dico come ho scoperto questa cosa io penso giudico credo che nell'essere gay non c'è niente di male di dispersione non basta non deve essere e come mai che una volta che ho visto che una persona siccome sta facendo un abbraccio molto affettuoso con il mio bellissimo giovane allievo e ho visto che questi mi guardavano e era sospetta il fatto che pensassero che io ero gay mi ha fatto arrossire e per me non c'è niente di male non c'è niente di brutto perché una cosa è cambiare le idee i pensieri le credenze una cosa è cambiare in sudo emozionalmente interrogato e cosa vuol dire essere gay so se è chiaro quello è una rieducazione emozionale un percorso di rieducazione emotiva di rieducazione sentimentale la chiamerei molto più complicato adesso non so psicoterapia come avviene perché non ne sono niente io da pubblicità semplicemente socialmente lo esaminavo non psicoterapia perché ma certo riuscire a vivere emozionalmente in modo diverso quella caratteristica che è stato oggetto introiettato di un disvalore riesce a viverla come una cosa bella io una volta sono stato alla linea del movimento italiano degli uditori di voce uditori di voce bellissimo vado a questa convegna a questa assemblea c'era una magnetta sentono le voci questi che hanno fatto un'associazione ma non sono psicotici però vai a questo convegno c'era una maglietta io sono un vitiore di voce allora questa cosa che è stata sempre nascosta sapete che viene nascosta per anni è una cosa veramente preoccupante allarmante perché lo sai che sopra che gli parlava nella capoccia perché non lo sai che Santa Giovanna d'Arco 4 perché non sai che questo è bravo quel genio della matematica allora perché questa cosa invece è sempre stata l'evento di la cosa più interessante su questo è che ti spiegano questa cosa la cosa più dura che hanno incontrato nel loro percorso è stato che nessuno vi ne è mai fottuto niente di che cosa erano queste voci quali voci cosa parlavano e quando gli parlavano semplicemente era un elemento per fare bianci no bianci questa è l'unica cosa la lamentela e finalmente in questo movimento la forza di questo movimento è che loro possono parlare finalmente di queste voci tra loro trappai e questo qui gli dà un grande giovamento gli passano le voci no ma le gestiscono e se li fanno una vita normale pur che si continuano a sentire le voci questo le raccontano la cosa più di qualche esatto per farlo come parte partecipato e a me questa cosa mi ha molto colpito perché poter fare queste esibizioni addirittura andai alcuni erano messi insieme uno spettacolo teatrale sulle voci che sentivano e quando andavano a parlare con lo psichiatra uno spettacolo teatrale beh questo elemento che loro dicevano questa è stata una svolta fondamentale per la nostra vita a me mi ha molto colpito francamente ho pensato che era un bel percorso di poter manifestare non vergognarsi l'esempietto che voglio fare ci esiste anche il movimento dell'arcollo sordo importantissimo movimento dei sordi qui abbiamo la presidente dell'associazione sordità e la moglie ha detto ciò che ha sembrato che anche non è esperto di probabilità e di poter l'arcollo sordo non è male non è semplicemente un'inferiorità una mancanza un'endica eccetera eccetera ma è essere parte di un mondo di una cultura di una lingua di una cosa e siamo molto orgogliosi e credi di essere parte di questo mondo della cultura non mi pare una svolta da poco siamo arrivati a un'ora civile allora innanzitutto vorrei ringraziare tutti i presenti qui presenti nel web e ovviamente i nostri relatori ringraziare anche per le numerose domande che però comunque a questo punto possiamo chiudere il nostro incontro io penso che personalmente per le cose che ho sentito dagli altri relatori l'ho trovata di un interesse estremo e ci sono aperte dentro la testa diversi spunti uno l'ho soltanto accennato ma certamente ce ne sono parecchi altri clinici e antropologici e anche più strettamente psicologici e penso spero che sia la stessa cosa per tutti quanti gli ascoltatori ma sembrerebbe di sì perlomeno per molti di essi vorrei soltanto evidenziare un'altra cosa cioè che questo convegno d'inverno mai è diventato una tradizione e quindi l'idea appunto come già aveva detto prima Angelo è quella di riprodurre anche l'anno prossimo tant'è vero che vi ricordo che abbiamo già deciso la data che sarà sempre tradizionalmente a gennaio essendo il convegno d'inverno e quindi il 26 del gennaio dell'anno prossimo che è un venerdì e l'argomento appunto sarà la vulnerabilità in adolescenza e il sottotitolo è il problema dell'identità di genere che oggi come oggi voi sapete che sta suonorando un notevole dibattito e anche grande interesse e una grande preoccupazione parlavo proprio l'altro giorno con una collega che lavora a bambino Gesù mi diceva che c'è ormai un'affluenza di ragazzi soprattutto adolescenti con a 12 13 14 anni che vogliono cambiare sesso e questo è chiaro che genera una serie di problematiche non banali che sono sì di valutazione psicologica ma anche basicamente di tipo etico evidentemente oltre che sociologico perché che cosa sta succedendo c'è un'epidemia improvvisamente prima era nascosto cos'è che lo contrastava che cos'è che lo facilita quando si può dire che effettivamente quello è il problema o il problema è più ampio dell'espressione di un disturbo più complesso più articolato insomma queste sono tante domande molto diverse fra di loro che meritano certamente una riflessione che abbiamo vogliamo affrontare l'anno prossimo ricordo anche a chi è interessato un'altra cosa che diceva Angelo perché un'altra delle nostre tradizioni che ormai è arrivata se non sbaglio alla ottava edizione che è il Baldini Day che tradizionalmente si svolge a Verona ma da quando c'è stata la pandemia è anche attraverso è un webinar anche attraverso la piattaforma Zoom e quest'anno sarà appunto dedicato al problema della delle difficoltà che si incontra nella relazione terapeutica utilizzando esempi con Antonio Semerari che ricordo ha appena pubblicato appena da qualche mese ha pubblicato questo libro molto importante sulla relazione terapeutica e che farà da Discussant quindi un evento di particolare interesse e attualità bene signori allora grazie a tutti quanti per essere qui grazie ai relatori per i loro interventi e alla prossima arrivederci grazie a tutti